Egli ha disegnato le sei stelle del toro, dette pleiadi. Sei, in quanto la settima non appare quasi mai. Attorno ad esse si appollano altre quaranta stelle, invisibili ad occhio nudo, lontane non più di un semigrado appena. In virtù del suo cannocchiale, di cui qui vi mostro coppia fedelissima, ottenuto con un sistema di pregiate lenti olandesi, la via Lattea, che ci appariva come una nebula, è stata scrutata e studiata tanto esattamente da poter dire risolte le innumerevoli dispute che per secoli tormentarono i filosofi. La galassia è infatti apparsa chiaramente come una congeria di innumerevoli stelle. La cosa è evidente in qualunque regione di essa l'osservatore diriga il cannocchiale. Galileo Galilei ha poi divulgato che esistono nei cieli quattro pianeti, fin dalle origini del mondo, che non sono mai stati veduti e di avere scoperto ed osservato durante due mesi le loro collocazioni. Ci hanno detto che il matematico del Granduca di Firenze ha scoperto anche il segreto delle macchie del sole. Che notizia ci date su questo punto? A Firenze ho saputo che Galilei ha molto studiato questo punto, ma egli purtroppo non può ancora dare una risposta definitiva, e cioè se le macchie siano in realtà vapori, esalazioni, nuvole o fumi prodotti dal corpo solare. Egli sulla natura di queste macchie è ancora incerto, potendo essere mille altre cose per noi impercettibili. Ma per ciò che riguarda il sole, egli crede di dover affermare, come assolutamente certa, una sua convinzione. Accordandosi i suoi studi con quelli del polacco copernico, egli afferma la mobilità della Terra e la stabilità del sole, intorno alla quale, secondo orbite prefisse, si muovono i pianeti. Se mi permettete... Dite pure. Se il signor Galilei insiste nel suo errore... Non è un errore, ma un'ipotesi ragionevole. Ma egli nega la Bibbia. Giosuè, infatti, disse al sole di fermarsi e al suo comando il sole che si muoveva attraverso i cieli si fermò. È evidente che le parole della Bibbia devono essere interpretate in un altro senso. E Galilei... Io dico che se egli continua a insistere nel suo errore, non vedo ragione perché voi dobbiate divulgare questa sua teoria presso di noi, proprio qui, al nobile collegio della Flesch. Voi avete parlato di Galilei come di un novello aristotile. La sua dottrina è nell'errore. Un errore che egli ha commesso per la sua superbia e che confonde la fede del popolo. La terra è al centro dell'universo. Tutte le testimonianze degli uomini, degli umili, come dei dotti, fin dall'inizio dei tempi, confermono questa verità. Trovo esagerato tutto questo vostro sdegno, signor de Bastion. La nostra intelligenza non deve mai soggiacere ad un irragionevole timore dell'errore. Essa deve affrontarlo e conoscerlo per essere in grado di vincerlo. Le ipotesi di Galilei hanno sollevato ovunque numerose critiche. Uomini di scienza e di chiesa si sono affrettati ad ammonirlo. Ma sulla sua dottrina, che si sappia, non è stato ancora pronunciato un giudizio definitivo. E se i suoi calcoli si riveleranno esatti, non potranno in nessun modo contraddire la verità. Credo sia importante che tutti vi applichiate allo studio delle informazioni che il signor de Simone ci ha portato da Firenze. Deo grazie. Deo grazie. Deo grazie. Avanti Ia. Io dico che è assurdo paragonare Galileo ad Aristotele. Aristotele ha costruito la sua dottrina su un sistema perfetto di sillogismi. Invece la scienza di Galileo nasce dall'osservazione dell'universo... Non è permesso parlare, signor Descartes. Scusatemi, signore. Spade in linea. Saluto. Saluto. In guardia. A fondo. In guardia. A fondo. In guardia. A fondo. In guardia parata di seconda. In guardia. A fondo. In guardia. Mezzo cerchio. A fondo. In guardia. Molinello. Avanti. Ah, voi avete chiesto il permesso di leggere il testo di Cornelio Agrippa La magia naturale e quello di Giovanni Battista della Porta sullo stesso argomento. E voglio confrontarli. Mi piacciono le cose curiose. Nella magia naturale dicono vi siano le migliori spiegazioni del magnetismo che si è dato di leggere e le più acute osservazioni sulla camera oscura. Vi do licenza di leggerli. Devo però ricordarvi ciò che consiglia la nostra regola. Negli studi, così come conviene incitare, spingere e incoraggiare coloro che ne hanno bisogno, è necessario frenare chi corre troppo in fretta. E voi correte molto, mio caro Descartes. Il nostro fine è quello di acquisire il sapere per aiutare le anime con il favore di Dio. Perciò in ogni studio si segua la dottrina più sicura e appropriata e si adottino gli autori che la insegnano. E si segua un ordine. Per questo, solo dopo aver posto un solido fondamento con la conoscenza del latino, delle arti umanistiche e della logica, la filosofia naturale e morale, la metafisica e la teologia possono divenire oggetto di attento studio. Io mi attengo scrupolosamente a questa regola, ma non provo nessun entusiasmo per tali scienze. Lo so, il libro sulla magia naturale di Cornelio Agrippa vi darà certamente più piacere di un testo di filosofia scolastica. Andate. Vi ringrazio padre. Il giovane Descartes è pieno di curiosità. Gli ho dato il permesso di leggere due altri libri. La sua passione per le nuove scienze è forse eccessiva. Egli è convinto che le nuove scienze, se si avvicinano alla verità, aiutano a scoprire ed amare anche Dio, che è la verità somma. Studiate ancora? Ho chiesto alla licenza di poter concludere questa lettura di ottica. Lo so, e domani lasciate il collegio. Ah, è sempre il della porta. Voi amate molto la fisica, ma per la verità siete stato sempre dirigente in ogni materia. Sono stato allievo di questo collegio per nove anni. Non credo vi sia altro luogo al mondo dove si insegni meglio la filosofia. Ma avete ragione voi. Quello che ho più amato sono le scienze nuove. Vorreste diventare matematico, astronomo, non è vero? Eh sì. Invece mio padre mi ha ordinato di prendere la licenza in diritto all'Università di Poitiers. Ma il diritto non mi interessa affatto. Che cosa farete allora? Non lo so ancora. Ma... Padre, cercherò di scoprirlo. Datemi vostre notizie quando potrete. Mi dispiacerebbe non sapere più nulla di voi. L'importante è però che non vi smarriate nel mondo. E facciate tutto per la maggior gloria di Dio. Certo. Cercherò di non smarrirmi. Ah, l'Angelus. Andiamo. Subito dopo riprenderò la lettura. Le guardie del re ne hanno ucciso il marito. Il gran maresciallo D'Arc, era lui il reggente del governo. Le colpe del malgoverno sono sue. Era lei l'anima nera del mondo. I due italiani col favore della regina d'Arc, pretendevano di comandare alla Francia. Il piove di Luigi XIII ha dato prova di grande abilità. Si è sbarazzato di loro e il popolo ne è soddisfatto. E' in casa, signor Levassar de Thioll? Sì, signore. René Descartes, signore di Ferroni. Che entri? Vi attendevo da alcuni giorni. Come sta vostro padre? Mi ha scritto da lei. Ma veramente... Non lo so, mio signore. Io vengo da lontano, dalla Turenne. Non lo vedo da più di due mesi. Purtroppo avete trovato molta eccitazione a Parigi. Io non conosco gli intrighi di corte. Ma a me sembra giusto che il giovane re voglia governare di persona piuttosto che lasciarlo fare a qualche cortigiana intrigante. Eh sì, avete ragione. Che cosa avete intenzione di fare adesso che siete a Parigi? Che progetti avete? Potrei aiutarvi. L'ho già detto a mio padre. Vorrei tanto che non mi aiutasse nessuno. Ho deciso di non iniziare nessuna carriera. Ho ancora bisogno di attendere. Ma allora, se siete indeciso, avrete necessità di aiuto. No, perché non sono affatto indeciso. Voglio solamente scoprire da me, da solo, come è fatto questo mondo. Parigi, per esempio. Da quando sono uscito dal collegio mi sono reso conto che io non ho appreso nulla di ciò che può essermi utile nella vita. Mio Dio, come adoro i tuoi capelli. Sono morbide onde sulla tua fronte. Carezzano lievi la tua bellezza. E mi fanno geloso quando ti baciano. Hai una bocca d'ambra e di rosa, ma le tue parole mi trafiggono se non mi dici, baciandomi, che amare è una sublime cosa. Vieni con me. Il vento urla forte. Certo non può udirci. E quello che noi faremo qui sarà un dolcissimo mistero. Meraviglioso. Teofil de Vio. Voi dite che non vi piace il diritto, ma è certo che amate la poesia. Sono sicuro che verrete presto a dirmi che a Parigi avete scoperto l'amore. Voglio scoprire ben altre cose qui, a Parigi. Mi fate banale, signore? No, rassicuratevi. Non lo siete nel modo più assoluto. Venite, vi accompagno alla vostra camera. Ecco la vostra camera. Vi piacerà, spero. Ci starò benissimo. Vostro padre mi ha scritto che siete un po' selvatico, ma qui potrete sentirvi come a casa vostra. Vi ringrazio, signore. Poggiala lì. not Myanmar. Tosc appellare. Non un po' selvatico. Non un po' selvatico. sara. No un po' selvatico. Signore, signore. Che c'è? Lo sai che non voglio essere disturbato. Lo so, signore, ma è mezzogiorno. Da due ore c'è un uomo che attende risposta a questo biglietto. È un invito di padre Mersenne al convento dei Minimi. Mersenne è un allievo anziano del collegio della Flesch. Rispondigli che andrò. Va, va. Cosa pensare allora di quelle false scienze che affermano senza mai provare niente? Invocando le qualità occulte della luna e delle costellazioni. Che cosa pensare di quanti smettono di pregare Dio e i santi per indirizzare delle magiche preghiere agli astri? Che cosa pensare di quegli astrologi che osano fare l'oroscopo a nostro Signore Gesù Cristo? L'uomo sapiente non è né un indovino né tantomeno un mago, ma colui che ama la verità. E come Aristotile crede che la natura ce ne mostra chiaramente il volto nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Certo non approvo Aristotile in tutte le sue parti, perché sono passati quasi duemila anni dalla sua morte e la scienza dell'uomo è assai progredita. Ma quanto alla ricerca della verità, ripeterò qui ancora ciò che ho detto molte altre volte. Aristotile è un'aquila, gli altri non sono che dei pulcini. Ma reverendo padre, nella ricerca della verità Platone dice una cosa, Aristotile ne dice un'altra, Epicuro un'altra ancora. Agostino sembra indicare una via diversa da quella di Tommaso d'Aquino. Telesio, Campanella, Bacone e gli altri innovatori recano degli argomenti ancora diversi. Voi dite che salvo Aristotile sono tutti dei pulcini, non vi sembra di esagerare? Le summe dei filosofi scolastici fondate sulle dottrine di Aristotile sembrano essere delle costruzioni perfette che conducono alla verità. Quando le si studiano restando chiusi dentro le pareti di una biblioteca o di un collegio, ma appaiono assai lontane da esse, se vengono confrontate con i mille e mille fenomeni che sono la realtà del nostro mondo. E chi mai tra questi ci insegnerà con autorità qualcosa sulla quale non possa esservi alcun dubbio possibile? Voi siete troppo giovani, avete ancora molto da studiare. E parlate contro Aristotile, incredibili. Probabilmente di Aristotile conoscete soltanto le citazioni che ci riportano le summe. Voi siete certamente il signor Descartes, il mio giovane condiscepolo di La Flesche. Il padre François della compagnia di Gesù mi ha raccomandato questo giovane. Il signor Descartes ha grande passione per le scienze matematiche. Avrete occasione di conoscerlo meglio in seguito. Certamente, signori, ma vi prego adesso di continuare e di scusare la mia interruzione. Allora, riprendiamo il nostro discorso. Venite a vedere. Venite. Mi è venuta un'idea, ho trovato il modo di misurare l'umidità dell'aria. Adesso vi mostrerò che cosa ho escogitato. Guardate questi due nastri di carta. Il primo è nel suo stato naturale. Quest'altro, che ho in precedenza bagnato, si restringe asciugandosi. Con questo mezzo ritengo di poter misurare i differenti gradi di umidità, come si misurano con un termoscopio i differenti gradi di calore. Interessante. Vedrete l'effetto tra qualche minuto. Vedo che in materia scientifica non seguite Aristotile. Ma non capisco. Se respingete la sua scienza, perché mai ne difendete la filosofia? Non mi direte che siete anche voi del partito degli innovatori e che respingete ogni genere di filosofia. Non respingo affatto la filosofia. Ma le dottrine che mi appaiono costruite su fondamenti poco sicuri, come sulla sabbia. Mi dispiacerebbe che attraverso questa via giungeste allo scetticismo. E questo è un pericolo, e voi lo sapete bene. Cosa fate per evitarlo? Io non cerco altra scienza di quella che posso verificare attraverso me stesso. E trago le mie lezioni dalla vita, piuttosto che dai libri. Ma se l'autorità dei filosofi vi adombra, chi altro pensate che possa guidarvi? Il convincimento, padre mio, che vi sono allo stato naturale, nel nostro animo, dei semi di verità. E che proprio questi semi sono in grado di darci la capacità di distinguere il vero dal falso. Dei semi di verità. Dovreste scriverle queste vostre osservazioni sulla filosofia del nostro tempo. Ne potrebbe nascere una discussione molto utile. Scrivere? Oh no, non posso farlo, padre. Non ho ancora riflettuto abbastanza. Spero almeno che veniate qualche volta a trovarmi per parlare con me e con i miei dotti amici, se vi farà piacere. Ma certo non mancherò. Vi ringrazio. Ecco, avete visto? Un giorno il vecchio maresciallo di Rockleur mi ha condotto a far visita a una certa Guglielmette, affinché constatassi che era in grado di parlare nelle più varie lingue mentre era posseduto al diavolo. Io mi sono avvicinato e ho cominciato a parlarle in cinque o sei lingue differenti, senza avere nessun'altra risposta che parole incomprensibili e orribili bestemmie in guascomo. Ad un certo momento entrò nella stanza un frate ed essa rinsavì. Una mistificazione, signori. niente di più di una mistificazione. Ti ho filo di più. Ho il dovere di avvertirvi che a forza di non credere al diavolo finirete per non credere più in Dio. E per questo io credo al demonio. Doppio sei. Ho vinto. Signore di Candal, permettetemi di presentarvi il mio amico René Descartes, signore di Perot. Seate il benvenuto. Signor Descartes, volete gustare del tè la bevanda che le navi olandesi ci portano dalla Cina? Grazie. Si dice che sia anche molto salutare. Oh sì. Infatti il mio medico mi raccomanda di berne almeno 50 tazze al giorno. Forse troppo. Prego. Io reco sempre nelle mie tasche il Santum Regnum, un libro prezioso, una delle prove scientifiche dell'ignoranza e dell'ipocrisia del nostro secolo. Se voi non foste amici mi guarderei bene dal mostrarvelo perché vi sono ancora molti in Francia che si divertono ad allestire rughi di eretici e di streghe. Ah, vedo che avete paura. Ebbene, me ne felicito. Coloro che hanno paura sono saggi. Ascoltate, è un libro scientifico. Chi brami fare un patto con l'inferno decida quale diavolo invocare. Non è lecito disturbare Satana se una potenza infernale subalterna è bastevole a soddisfare i vostri desideri. come vedete la discrezione è una virtù necessaria anche nell'inferno. Per l'evocazione viene prescritta una pietra sanguigna che si vende dagli speziali e due candele di cera benedetta. Vi è anche una preghiera di sicuro effetto. Oh, imperatore Lucifero, signore degli spiriti ribelli, supplico il tuo aiuto mentre chiamo il tuo ministro Lucifugero Focale per stipulare un contratto con lui. Fai che mi appaia in forma umana e senza cattivo odore. Beh, non vi sembra che si tratti di follie e di esagerazione di cui si occupa purtroppo persino la corte e su cui la sorbona indice delle dispute teologiche. È assurdo. Non c'è da meravigliarsi. A Parigi si disputa su tutto. Non si può usare tranquillamente la propria ragione perché si trova sempre qualcuno disposto a dimostrare con mille cavilli che esiste una verità più vera di un'altra. Bisognerebbe liberarsi dei consiglieri della Corona dei membri della Curia dei Gesuiti e dei Dominicani dei dotti della Sorbona e delle cortigiane influenti. E anche del signor di Luin il favorito del lì. È giusto. Non vi sbigottite signore sono dei gentiluomini onorati ma non sopportano i frati né il partito spagnolo né i Gesuiti che poi è la stessa cosa. Vogliono soprattutto essere liberi. Il signor de Somesli conosce bene è uno di loro. Sono Guy de Balzac mi congratulo con voi signor Descartes vi ho ascoltato al convento dei minimi e devo darvi atto del vostro coraggio il signor Desclaves è stato condannato per aver detto in pubblico cose molto più prudenti dalle vostre. Non lo avrei immaginato. Signori non brindate anche voi a Maurizio di Nassau? E perché dovrei? prepara un nuovo esercito prepara un nuovo esercito ha liberato l'Olanda dai pregiudizi l'ha portata ai commerci e ha cacciato tutti i preti pedanti la sua è l'unica terra al mondo dove calvinisti e cattolici vivono insieme senza darsi troppo fastidio. Non fateci caso a quel che dice lo sanno tutti il nostro grande Theophile de Vieux il poeta della libertà si entusiasma facilmente. Di cattolici in Olanda ne sono rimasti molto pochi a dire la verità. Sono felice di brindare con voi signore a Maurizio di Nassau ma soprattutto a voi di cui apprezzo e amo la splendida poesia. Vi ringrazio del complimento ma vi avverto che l'adulazione mi dà fastidio al contrario ciò che mi dà molto piacere è trovare un vero amico pronto a bere con me. Avete intenzione di arruolarvi anche voi tra i cattolici del principe di Nassau? La migliore gioventù di Parigi oggi non desidera altro che andare nei Paesi Bassi a militare sotto le sue bandiere ma io preferisco rimanere qui a Parigi non so come potrei vivere senza i suoi salotti il signor Descartes è ormai lontano dagli insegnamenti ricevuti dai reverendi padri della compagnia di Gesù. La ribellione all'insegnamento degli antichi libera il mondo. La via che gli antichi hanno tracciato nella ricerca della verità mi appare ogni giorno di più colma di confusione. Bisogna scrivere nuovi libri sollevare gli uomini con la poesia che per la sua stessa natura è libertà. Dobbiamo cercare di impedire che dai libri degli antichi ci provengano falsità. Spesso gli antichi dinanzi a problemi di cui era loro ignota la soluzione hanno dimostrato l'errore come verità sostenendo le loro tesi con sottilissimi argomenti. Desidero venire ad ascoltarvi e potervi porre dei quesiti se mi farete l'onore di darmi il vostro indirizzo. Abito in Rydifour presso il signor Levasseur de Thiolle. Vi ringrazio. Trovate un posto al tavolo per il signor Descartes e fatelo giocare. Il signor de Balzac ama tanto la libertà da non sopportare neanche le sue giarrettiere. Ho sentito signore che non avete intenzione di andare a militare sotto Maurizio di Nassau è vero? Infatti. Fate molto male signore. Gli unici paesi d'Europa dove vi sia ancora un residuo di libertà sono Venezia e l'Olanda. Venezia è una repubblica dove si fa del commercio e non si discute certo sul credo dei clienti come i Paesi Bassi dove Maurizio di Nassau ha scacciato l'inquisizione spagnola giovandosi dell'aiuto dei più valorosi uomini d'arme di Francia per la maggior parte cattolici. Volete cominciare a giocare? I signori Bazak e Sommese sono venuti a rendervi visita. Fali entrare. Scusate questa introduzione signora sappiamo che Descartes abita presso di voi e il signor Descartes si è nascosto mi ha lasciato senza dirmi nulla il suo domestico mi è venuto a trovare in gran segreto dice che il suo padrone è andato a nascondersi in un soborgo e non esce dalla sua stanza da molti giorni confesso che sono preoccupato una specie di fuoco dove avergli invaso il cervello mi ritengo autorizzato per l'amicizia che mi lega a suo padre a violare il suo ritiro ci stavo appunto andando volete accompagnarmi? attenti di sotto è più di mezz'ora che stiamo camminando non si arriva mai è qui si 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 è qui per trovarlo il vostro amico Levasseur in compagnia del signor Di Balzac e del signor Sommels ah entrate vi confesso caro amico che essendo rimasto così a lungo senza vostre notizie temevo vi foste ammalato abbiamo incontrato per caso il vostro domestico che ci ha condotto devo dire suo malgrado fino a voi le vostre premure mi commuovono ma non vi allarmate sto benissimo mi sono chiuso solo in questa stanza da molti giorni e ho riflettuto su ogni momento della mia vita passata di cui ho memoria e sono giunto a questa conclusione io mi devo assolutamente liberare della mia infanzia se voglio riuscire a conoscere di che cosa è capace la ragione umana voglio darvi una notizia signori voi siete i primi a conoscerla ho deciso di abbandonare i miei libri e di andare in Olanda ad arruolarmi nell'armata di Maurizio di Nassau come molti altri giovani francesi che ne dite signori? siete davvero convinto che riuscirete a lasciare in Francia quella parte di voi stesso che tiene prigioniere alla vostra ragione? ebbene bisognerà pure che io faccia qualcosa per liberarmi dei pregiudizi nei quali sono cresciuto e sono stato educato incredibile ammettere di avere dei pregiudizi è cosa rara ai nostri giorni che qualcuno lo riconosca quando eravamo piccoli noi abbiamo appreso che con i capricci e le lacrime ci potevamo far obbedire dalle nostre nutrici e ci siamo così anche persuasi che il mondo era a nostra disposizione e dallo stesso modo fin dall'antichità che è il tempo dell'infanzia dell'umanità l'uomo si è persuaso che la terra è piatta e non tonda e che essa rimane immobile al centro dell'universo e si è fatto innumerevoli altre opinioni anche se false sulla realtà di cui gli è molto difficile disfarsi ancora oggi i nostri maestri hanno rivestito di parole sapienti queste opinioni arcaiche e così facendo hanno radicato fortemente in noi la forza dell'errore che esse contengono e voi credete che andando in Olanda riuscirete a liberarvi dal contagio di tali errori? io ho bisogno di allontanarmi dall'aria di questa città dal rumore che producono le parole e le opinioni dei suoi dotti per riuscire a fare funzionare liberamente la mia ragione ho deciso di rifiutare ogni opinione anche le mie come se fossero tutte false e ho deciso anche che non accetterò se non prima di averle attentamente esaminate con la mia ragione che quelle sulle quali avrò raggiunto una assoluta certezza farò come un mercante di mele il quale svuota tutto il cesto temendo che qualche frutto sia marcio e vi rimette dentro solo i frutti sani ma io ho sempre pensato che Parigi fosse la città più capace di stimolare l'intelletto e di dare alla ragione la libertà più grande anch'io lo credevo ma viaggiando per il mondo potrò conoscere molto meglio la verità che non attraverso le discussioni dei sapienti parigini vedo che avete già preso la vostra decisione lo avete scritto a vostro padre certo non mi metterei mai in viaggio senza dargli notizie e quando partirete immediatamente e con un piccolo bagaglio in cui non vi sarà posto per alcun libro colui che ama la libertà deve inseguirla ovunque egli creda che essa viva e vedo che per voi la libertà vive in Olanda se la trovate davvero scrivetemi vi scriverò signore un po' di paro Buon tabacco. Portateci della birra. Sembra che in questo paese vivano soltanto mercanti e marinai. Permettete? Vorremmo parlarvi. Sedetevi. Quasi tutte le mattine. A quest'ora vi vedo venire qui a bere la solita birra. La trovate buona? Cosa valete da noi, signore? Sì, signore. Sappiamo che maneggiate bene la spada. Tutti i gadetti sono degli spadaccini. Ma ci hanno detto che voi siete dei maestri. E poi vi osserviamo da parecchi giorni. Non siete mai ubriachi. Vi ho già chiesto, signore, che cosa desiderate da noi. Vi offriamo un ingaggio. Duemila fiorini l'anno come maestri d'arme su due navi che viaggiano per conto della Compagnia delle Indie Occidentali. Noi siamo cadetti senza paga, signore. Ognuno di noi ha di che vivere. Ma se amate l'avventura e vi piace la libertà, per voi non vi è nulla di meglio che prendere la via del mare. Noi vi offriamo un imbarco su due battelli mercantili nuovi da 600 tonnellate che sono stati appena armati. Sono navi che assomigliano a un palazzo. Hanno 30 cannoni e delle stive più grandi dei magazzini del signor Van Cleef di Amsterdam. Avrete una cabina con il solo compito di istruire i marinai e di comandare la guardia della nave. E l'ingaggio per quanti mesi sarebbe? Per un solo viaggio, signore. Per 12 mesi vi troverete in tasca la bellezza di 2000 fiorini, perché mentre siete in viaggio avete poco da spendere. Vi renderete conto che è un ottimo affare. Le navi approderanno alla colonia olandese di Nuova Neverland, alla foce del fiume percorso da Hudson, nel quale si naviga come in un vastissimo mare. Per quanto mi riguarda, la vostra offerta non mi interessa affatto. Sulla vostra nave non potrei portare con me il mio domestico. E non potrei avere nessuna delle comodità che mi sono indispensabili per vivere e per pensare. E' strano per un soldato che siate tanto attaccato alle vostre comodità. Anche voi, signore, rifiutate l'offerta? Io devo purtroppo tornare a Parigi alla fine dell'anno. Altrimenti l'accetterei. Io tutte le mattine vengo a bere un bicchiere di birra in questa locanda. Se doveste cambiare idea, non avete che da dircelo. Per quanto mi riguarda, signore, non ci sperate. Sono due giorni che ha fisso qui questo problema e non si è ancora presentato nessuno che abbia trovato la soluzione. Allora vai, amico mio, e buona fortuna. A Dio e grazie. Scusatemi, signore, vi ho sentito parlare nella mia lingua. Volete usarmi la cortesia di tradurmi il testo per maggior sicurezza? Certi dettagli non li ho capiti. Con piacere, signore. Ecco, problema di matematica per una mente illustre. Una pietra cade da A a B in un'ora. Questa è perpetuamente attratta dalla Terra con la medesima forza senza nulla perdere della velocità che le è stata impressa dall'attrazione precedente. Orbene, quel che si muove nel vuoto si muove eternamente. Si domanda quanto tempo impiegherà la pietra a barcare uno spazio dato? Bene, la soluzione è semplice. Semplice? Ma sì. Ma sono io, signore, che ho messo questo avviso, disperando di poter mai trovare una risposta al problema, ed io sono un matematico. Quando vorrete, io sono pronto a darvi la dimostrazione. Vi attendo a casa mia, signore. Sono ansioso di udirla. Qui a Breda tutti quanti sanno dove abita Isaac Beckman di Middleburg. Ecco. In questo triangolo rettangolo ABC rappresentano lo spazio, cioè il movimento. L'ineguaglianza dello spazio dal punto A alla base BC rappresenta l'ineguaglianza del movimento. Di conseguenza AD sarà compiuto nel tempo che è rappresentato da ADE e DB nel tempo rappresentato da D e BC. Quindi AB sarà raggiunto tre volte più lentamente che AD. Sì, esatto. Esatto. Sapete che cosa mi avrebbe risposto un dotto scolastico al vostro posto? Ogni cosa presente nell'universo appartiene ad un luogo che gli è naturale. Il luogo che le si confà di più. Possiamo dire che il peso non è altro se non l'appetito che hanno le cose di ritrovare quel luogo di beatitudine. Signor Beckman mi avrebbe detto Il vostro problema è semplicemente male esposto. Basterà che mi diciate prima qual è il corpo che sta cadendo ed io vi dirò subito qual è il suo luogo prediletto. Ma tutto questo è semplicemente assurdo. Vedo signore che vi rifiutate come me di spiegare ai fenomeni fisici attribuendo ai corpi delle qualità che appartengono soltanto allo spirito. È per questo che amo la matematica e pratico la medicina. Bene, avete ragione. La matematica è l'unica disciplina dalla quale ci proviene la certezza. Le scienze matematiche ci insegnano la enumerazione e il calcolo di qualsiasi movimento. I rapporti, le proporzioni tra tutte le cose esistenti, nella luce, del suono, l'operazione della matematica, esprimono sempre una logica evidente e concreta. Per esempio, voi lo sapete, il segno uguale è fondamentale. La matematica mostra in modo rigorosamente certo ed esatto tutte le uguaglianze possibili e ci consente di difenderci dall'inganno dell'apparenza. Quello che mi piace in voi, signore, è il fatto che non parlate il linguaggio degli scolastici e che discutete di scienza come nessuno dei miei concittadini sarebbe in grado di fare. Sapete, sono quasi tutti dei buoni calvinisti. Vanno ad ascoltare i sermoni e non parlano d'altro che di affari e di teologie. Voi non siete cattolico, vero? No, infatti, signore. E voi siete certamente cattolico romano. Sono francese, signore, e cattolico. Ma sono sicuro che questo non mi impedirà di conversare con voi. Mi siete simpatico, signore. Vi confesso che non avrei mai creduto di trovare un matematico e un filosofo nascosto nei panni di un soldato. Spero che ritornerete ancora a farmi visita, signore, e spesso finché vi fermerete qui a Breda. Sarà un grande onore per me. Signore, questa mattina non siete andati all'esercitazione di cavalleria? Volete anche mancare all'appuntamento con il signor Beckman? No. Questi letti olandesi mi hanno fatto passare il gusto di dormire. No, non quello. Dammi l'aveto civile. E così, signori, l'anima di questo animale, un'anima inferiore rispetto a quella dell'uomo, che è un'anima superiore, fa in modo che quello stomaco digerisca, estraendo dagli alimenti i succhi necessari al mantenimento della vita. Il dottore attribuisce all'anima funzioni che sono proprie del corpo. Un antico pregiudizio, una sensazione infantile, fallace come tutte le sensazioni, è fonte di rovinosi errori. Domando scusa se intervengo. Dite, sbagliate a ritenere fallaci le sensazioni. Quando un fanciullo immerge un bastone in un ruscello, la vista gli può far credere che sia spezzato. Ma se, chiudendo gli occhi, tasta il bastone per tutta la sua lunghezza nell'acqua e fuori, si renderà conto che il suo bastone è dritto. Avrà allora corretto la sensazione della vista con il tatto e ristabilito la verità senza uscire dal mondo delle sensazioni. No, signore, poiché nel nostro caso è intervenuto la ragione del fanciullo che gli fa controllare la sensazione del tatto dopo quella della vista. È la ragione che lo conduce a rettificare il suo errore. Senza il controllo della ragione, le sensazioni sono tutte fallaci. Ecco qui il cuore di questo animale che l'anima faceva muovere grazie alla facoltà pulsifica che essa possiede. Il dottore fa delle affermazioni di cui non saprebbe dimostrare con l'evidenza la verità. Non ci sa dire in che modo l'anima inferiore di questo animale agisce direttamente sul nostro cuore. Che cosa hanno da obiettare, lor signori? Perché non parlano ad alta voce se hanno qualcosa da dire? Io dico che per giustificare le vostre affermazioni voi ripetete antiche teorie aristoteliche sull'anima e vi affidate a vostre personali sensazioni. Ciò che insegno è verità evidente, mio signore. Per la maggior parte degli uomini l'evidenza è ciò che hanno sempre visto, sin dall'infanzia, quando gli adulti davano alla loro mente semplice una spiegazione per tutte le cose. Per scoprire invece con assoluta certezza la natura delle cose noi dobbiamo liberarci dalla visione del mondo che ci siamo andati costruendo di padre in figlio attraverso i secoli. Dobbiamo affrancarci dall'inganno delle sensazioni e imparare a servirci meglio della nostra ragione. Ecco che cosa ha da dire. E quale visione del mondo avete da offrirci in cambio, mio caro signore, visto che negate quella che ci tramanda l'esperienza secolare degli antichi? Una visione del mondo che risulti evidente come quella che ci viene dai numeri, dalle matematiche. Insomma, voi pretendereste di sostituire gli insegnamenti della filosofia e delle scienze che ci vengono da una così lunga tradizione di dotti con l'insegnamento dei matematici dei nostri giorni. Ma la realtà non è fatta di quantità. Vi sono le qualità delle cose ed esse si percepiscono attraverso le sensazioni. Quelle sensazioni che voi tanto temete. Permettetemi, signore, di mettervi in guardia contro le vostre pretese perché potreste rischiare di precipitare la vostra mente in una oscura foresta di numeri. Il mio giovane amico è un abile e profondo matematico e io voglio sperare che comprenderete il suo entusiasmo forse un po' eccessivo per la chiarezza che proviene dai numeri. Sì, certo, signore. Chiedo scusa per avervi interrotto, signore. Vi prego, continuate pure la vostra dissezione. Signori. Signori, io non so se tra due anni, vale a dire quando avrà termine la tregua dei dodici anni, continuerà la guerra contro gli spagnoli. In ogni caso, il glorioso esercito delle province unite dei Paesi Bassi dovrà avere per quell'epoca una artiglieria che sia ancora più potente di quella che gli spagnoli ebbero a conoscere a loro spese prima della tregua. Ecco dunque il vostro compito per la lezione di oggi. Dovrete calcolare l'alzo di tiro di tre cannoni e questo in rapporto all'altezza dei bastioni che difendono la città di Ostenda per effettuare una gittata che sia la più sicura e potente possibile. Ecco le distanze dei cannoni dai bastioni. Il primo si trova a mille piedi, il secondo a 750 e il terzo a 5.000. Nel 1603 la conquista di questo porto da parte delle nostre truppe è costata ben 4 milioni di fiorini ma sarebbe costata certamente molto molto di più se il principe Maurizio di Nassau non avesse potuto contare sulla migliore artiglieria del mondo. I calcoli dell'alzo sono fondamentali per l'artiglieria è per questo motivo che vi raccomando l'applicazione più attenta nello studio di questo problema. Buongiorno signori. I calcoli come al solito ce li farà il nostro amico Descartes. Ce li farete, vero? Ecco i vostri calcoli, signori. Ma state pur certi che quando vi sarà la guerra io non sarò con voi ad aiutarvi. Non vi preoccupate per il momento la guerra sta ancora riposando. E il principe Maurizio di Nassau tiene armato un esercito solo per sostenere la sua lotta politica contro Van Oldenbarnevelt. Hanno combattuto insieme contro gli spagnoli alla testa delle province federate per la libertà dell'Olanda e adesso si combattono l'un l'altro come i peggiori nemici. Oldenbarnevelt è il più anziano, il più saggio è lui che riscuote il favore del popolo. Perché vuole che l'Olanda sia una repubblica. E soprattutto perché non vuole che Maurizio di Nassau diventi re dell'Olanda. Credete che il principe Maurizio userà l'esercito contro Oldenbarnevelt? Non è alcun bisogno. Il principe Maurizio ha già accusato Oldenbarnevelt di eresia per l'appoggio che gli ha dato a una fazione di calvinisti, gli arminiani. Anche tra i calvinisti l'accusa di eresia può distruggere un uomo più di un intero esercito. Ma se condanneranno Oldenbarnevelt i suoi partigiani si solleveranno. Qualsiasi cosa avvenga io fra un mese non sarò più qui. Fra un mese io sarò in Germania. Il duca Massimiliano di Baviera arruò la truppe e certamente con la patente della nostra accademia credo che potrò trovare presso di lui un buon posto di ufficiale. E con la paga. E contro chi farà la guerra? Contro i boemi, ribelli al loro re e imperatore Ferdinando II. Mio zio mi ha scritto da Ulma. Dopo che i nobili calvinisti boemi hanno gettato dalla finestra del castello di Praga i messi imperiali e i loro segretari con i quali avrebbero dovuto trattare i termini di un accordo da più parti in Germania si armano truppe. Gli imperiali cattolici si preparano ad assalire e a distruggere i protestanti boemi che sono capeggiati dal principe elettore del palatinato. In Germania non passa anno in cui non si armi un esercito. È sempre stato così. Vi sono sempre stati dei vantaggiosissimi arruolamenti. E vi anche dell'ottima birra. E delle bellissime donne. Il signor Beckman. Buongiorno signor Descartes. Vi vedo finalmente sveglio di buon mattino. Oh sì. Ho una grande nostalgia per i nostri buoni letti francesi. Ho ricevuto il vostro biglietto. Perché volete abbandonare l'armamento? Non sono venuto per restarci. Io faccio il soldato per studiare gli uomini e per mettere me stesso a confronto con la vita. Adesso andrò in Danimarca. E dopo forse in Germania. Non so ancora bene. E così abbandonate i vostri progetti. Qualche tempo fa avevate promesso che avreste pubblicato un trattato di meccanica e di geometria. Ma da quando siete a Breda non vi ho visto scrivere neanche una riga su tale argomento. Oh, naturalmente non è che non abbia apprezzato quell'ottimo compendio di musica che mi avete mandato in dono per Natale. Ma confesso che mi attendevo di più dalla vostra mente matematica. Scriverò. Manterò fede a tutti i miei progetti. Non abbiate timore. Ma ho ancora bisogno di riflettere. Ho capito che gli uomini quando vengono assaliti dalla curiosità corrono il rischio di spingere l'intelligenza per vie che sono loro ignote. Di andare vagabondi senza una meta precisa senza una speranza ragionevole come a caso come guidati solamente dalla fantasia. Eppure vi ho sentito in più di un'occasione formulare delle ipotesi precise dei calcoli esatti. Ho bisogno di riflettere ancora. Allora prima di partire dovete promettermi almeno che mi invierete copia di tutto ciò che scriverete. Ve lo prometto caro amico. Voi mi avete svegliato qui a Breda da una vecchia inerzia che mi portavo dietro. Avete richiamato la mia mente sviata ad un serio studio delle matematiche. Come potrei mai dimenticarmi di voi? in Germania all'inizio della stagione invernale l'acquartieramento forzato dell'esercito mi costrinse a fermarmi in un alloggio nel quale non avendo né cure né passioni che turbassero il mio spirito me ne restavo tutto il giorno in solitudine in una stanza ben riscaldata dove potevo intrattenermi in tutta tranquillità coi miei pensieri. Così dopo pochi giorni di riflessione mi apparve limpido come una scienza mirabile un nuovo fondamento del sapere dal quale è possibile produrre un ordine tra tutti i pensieri che possono entrare nello spirito umano così come esiste un ordine naturale fra tutti i numeri. Quella notte in cui vidi questo nuovo principio feci tre sogni i primi due devo confessare che mi spaventarono mortalmente il terzo invece assai dolce e assai piacevole fu quello nel quale mi sembrò veder nascere una nuova speranza per l'avvenire. Raccontatemi i vostri sogni. Dunque mi vedevo camminare per una strada oppresso da un turbine spaventoso di vento avevo l'impressione di cadere ad ogni passo vidi allora un collegio e fu là che mi rifugiai cercando di raggiungere la chiesa di quel collegio per pregare vidi nel cortile ventoso un uomo di mia conoscenza che avevo sorpassato senza salutare voglio allora tornare sui miei passi per scusarmi della mia mancanza ma non mi fu possibile perché fui respinto con inaudita violenza dal vento mentre quella persona ed altre che la tornavano erano diritti e stabili sui loro piedi io ero invece sempre curvo e vacillante come se quel turbine di vento soffiasse soltanto per me quando mi svegliai fui preso da un grandissimo dolore pregai Dio che mi difendesse dal maligno e dopo aver passato due ore in profonda meditazione sui beni e sui mali di questo mondo mi riaddormentai e subito ebbi un nuovo sogno udì un gran tuono e la paura mi svegliò di nuovo e aperti gli occhi vidi la camera tutta invasa di scintille infuocate cosa che mi era già successa altre volte meraviglioso il fuoco e la luce sono dei segni importanti in breve tempo aprendo e chiudendo gli occhi alternativamente tutto si dissipò e allora ripresi il sonno con una grande calma un momento dopo ebbi il terzo sonno dite dite mi trovai tra le mani una raccolta di poesie il corpus poetarum lo aprì e vi lessi questo verso quod vite sectabor iter quale cammino sceglierò per la mia vita un uomo che non avevo mai visto mi presentò in quello stesso momento un testo inversi che cominciava così est et non si e no si tratta di sogni molto curiosi e sembra non nascondere delle importanti rivelazioni ne avete scoperto i significati li ho esaminati attentamente il mio primo sogno indicava gli errori e i timori i dubbi della mia vita passata il secondo non poteva essere che un segno evidente dello spirito di verità che scendeva su di me il terzo mi indicava l'avvenire est et non è il sì e il no di Pitagora un avvenire nel quale mi sarà rivelata la verità e allo stesso tempo la falsità delle conoscenze umane e delle scienze profane io non so quale destino vi attenda signor Descartes però vi raccomando caldamente di pregare Dio di conservarvi nell'umiltà perché è scritto che la scienza perde i sapienti la verità assoluta cioè a dire il Dio rimane un mistero per tutti signore i vostri consigli sono sempre pieni di saggezza siete sempre così pieto instabile è incredibile non arriverete mai ad alcun risultato se non sceglierete una buona volta una dimora fissa per studiare per scrivere avete ragione ma quando mi fermo in una città dopo aver visto come vi si vive e dopo aver parlato con tutti coloro con i quali giudico che meriti parlare vengo preso da un gran desiderio di rimettermi in viaggio e per quanto tempo avete intenzione di fermarvi a Parigi molto poco mio caro padre ho visto il signor Levasseur che mi ha parlato dei vostri sogni mi ha detto che credete di aver raggiunto un nuovo fondamento per conoscere con assoluta certezza la verità il signor Levasseur ha esagerato devo ancora riflettere su ciò che ho solo intuito ma voi dubitate di tutto a molti apparite come uno scettico ma è stato anche detto che avete intenzione di ripudiare tutte le vostre vecchie credenze ma non quella della fede padre mio tranquillizzatevi perché la via del cielo è aperta agli ignoranti come ai dotti e quanto al mio dubitare di tutto rassicuratevi io non ho nulla in comune con gli scettici voglio solo costruire le mie convinzioni sulla roccia e non sulla sabbia perché non intendo affatto imitare quei viaggiatori i quali essendosi smarriti in una foresta si mettono a vagare a girare attorno senza direzione non posso impedirmi di sospettare che ci sia dell'orgoglio nelle vostre affermazioni l'appestato è là dottore mi sto facendo costruire un baule comodo per i miei viaggi osservate bene il lavoro del fabbro i nostri aristotelici affermano che il martello deve essere battuto velocemente perché con la velocità la natura viene sorpresa e non le si lascia il tempo di radunare le sue forze per resistere all'urto del martello la loro teoria non vi sembra assurda? assolutamente fra poco sarà pronto tornerò stasera un metodo capace di vincere il dubbio e di produrre certezza secondo me dovrebbe somigliare alle arti meccaniche che contengono in se stesse i principi secondo cui bisogna fabbricare gli strumenti che sono loro necessari si assordante è meglio andar via fermo bisogna che mi affretti a partire quando partirete? e dove andrete? forse in Italia però prima di partire visiterò la mia campagna in Turenna per vendere la parte della mia eredità materna in terre e armenti ma non venderò senza servare per voi un po' di burro dalle mie vacche vi ringrazio non trascurate di scrivermi no che Dio vi assista ci sono mai reggio eterno donna e domina e tee luci e teis requiescant in pace a ... Ecco qui i due atti di vendita. Il signor René Descartes riceverà dal signor Diolefis per l'acquisto dei poderi della Grande Maison e di Marche duemila libri tornesi, altre tremila gli saranno versate dal signor Châtillon per il feudo di Peron. Il signor Pierre Descartes, fratello del signor René Descartes, non ha alcuna obiezione? No, nessuna. Sia ben chiaro, l'acquisto dei diritti signorili sulla terra della Bobinière fa parte della stessa transazione. Questo figura nel contratto, nei termini che avete a suo tempo convenuto con il signor Descartes. Benissimo, non ci resta che firmare. Secondo i termini il contratto entrerà in vigore tra otto giorni. Signori, signori. Buongiorno, buongiorno. E così hai voluto liberarti di una parte dell'eredità. Questo mi dispiace perché mi rendo conto che hai deciso di non voler più tornare a vivere con noi. Tu non ami la Francia. Voglio vivere dove mi è utile, dove mi piace, dove posso scoprire qualcosa, dove sono in pochi a conoscermi e dove posso riflettere in pace. Quando potrò rivederti? Non lo so. Certo ho il mio ritorno dall'Italia. Hai venduto della buona terra, grassa. Ma ho fatto un buon guadagno. Teofil de Vio è un impuredateo libertino, tanto malizioso da avere l'impudenza di scrivere orribili vestemmie contro Dio. Con i suoi esecrabili versi ha fatto una gomorra della nostra Parigi. Egli è fuggito e noi lo bruciamo qui in effige. Ed insieme alla sua effige bruciano i suoi scritti e bruciano anche gli scritti di tutti gli altri libertini. Le sui anime sono preda del vantaggio. Il principe delle tenebre deve essere ricacciato nel suo regno. Nel fuoco eterno al quale il Dio lo ha condannato. Bruciatelo vivo. Questi libertini Dio li punirà. Anche su questa terra li punirà questi libertini. E un giorno urleranno come cani arrabbiati. L'intolleranza è come la peste. Manco da quasi tre anni, ma ogni volta che torno a Parigi mi succede di trovare sempre qualche cosa che mi sconcerta e che mi fa desiderare di partire al più presto. In Italia non avrai potuto certamente godere di uno spettacolo così eccitante. Tanta barbarie e tanta volcarità mi stupiscono e mi sconcertano. Saranno precipitati nell'inferno e grideranno in vano! Il Parlamento ha esiliato da Parigi gli autori delle tesi contro la filosofia aristoterica. Ne ha proibito sotto pena di morte la divulgazione e l'insegnamento. E ha condannato Teofil con molti altri dei nostri amici libertini. ...di insegnare i loro vizi e fare arrossire persino il candore della carta su cui si scrive! Meno male che Teofil de Vieux è riuscito a fuggire da Parigi. Così adesso si devono accontentare di bruciarlo in effigie. Ma il fuoco purificherà la terra dal loro orgoglio e renderà giustizia a Dio! Il prodotto delle menti dei superbi deve essere distrutto! Esso è come la zizzania che soffoca le anime dei semplici! Saranno precipitati nell'inferno! Direte a padre Mersenne che se non mi sono fatto vedere da lui è perché da molto tempo non esco più di casa. L'aria di Parigi per me ormai è irrespirabile. Assicuratelo però che non mancherò alla riunione che ha preparato per me. Grazie signore. Siamo in molti a desiderare di conoscere il frutto delle vostre riflessioni. Padre Mersenne ci ha parlato spesso di voi. Signori, cedendo alle insistenze di padre Mersenne voglio riferirvi ciò che ho intrapreso a scrivere su questo argomento dopo anni di lunga riflessione. Le 21 regole per la guida dell'intelligenza. Mi sembra incredibile che un gran numero di persone indaghi con tanto fervore sui costumi degli uomini sulle virtù delle piante, sui moti degli astri sulle trasformazioni dei metalli e su molte altre simili discipline e che quasi nessuno si prenda la pena di indagare sulla mente dell'uomo su come essa possa rettamente funzionare sulla mente umana che è fonte mirabile e universale di sapienza e senza la quale non vi sarebbe conoscenza. La prima regola Il fine degli studi deve essere quello di guidare la mente a giudizi sicuri e veri intorno a tutto quello che le si presenta. Se qualcuno vuol cercare seriamente la verità non deve applicarsi soltanto a una particolare scienza poiché le scienze sono tutte collegate e dipendenti l'una dall'altra nell'unità del sapere. La seconda regola bisogna occuparsi soltanto di quegli oggetti alla cui certa e sicura conoscenza ci pare di poter giungere attraverso la nostra intelligenza. Bisogna a questo proposito sapere che tra le scienze oggi conosciute solo l'aritmetica e la geometria sono esenti da falsità ed incertezze perché consistono interamente nel dedurre logicamente una serie di conseguenze. Vertono se di una materia pura e semplice e non suppongono per esistere alcuna cosa che l'esperienza concreta abbia potuto rendere incerta. Con il loro ausilio soltanto per disattenzione l'uomo può cadere nell'errore. La terza regola non bisogna fermarsi a studiare le opinioni e le congetture degli altri o di noi stessi ma cercare di intuire con la chiarezza dell'evidenza il contenuto reale delle cose. Per questo ci serviremo dell'intuizione e della deduzione. Per intuizione non intendo il frutto incostante delle sensazioni o delle nostre immaginazioni ma il concetto che sgorga da una mente pura e attenta tanto chiaro e distinto che intorno ad esso non rimane alcun dubbio. Per esempio 2 e 2 sono la stessa quantità che 3 e 1 cioè a dire 4 in quanto alla deduzione essa è tutto ciò che noi accettiamo come necessariamente vero in conseguenza di precedenti conoscenze che siano già state ottenute con assoluta certezza. Da queste regole nascono tutte le altre ed innanzitutto la quarta che io deduco dalle precedenti. Per la ricerca della verità è necessario un metodo un metodo che conduca i pensieri con ordine procedendo dagli oggetti più semplici e più facili a conoscere per salire poco alla volta ai più difficili. Dopo che avremo intuito un certo numero di preposizioni semplici se da esse risulteranno concetti chiari e distinti con un movimento continuo del pensiero passeremo a riflettere sulle loro reciproche relazioni. In questa metodica ricerca della verità si farà uso dell'intelletto dell'immaginazione dei sensi e della memoria sia per intuire distintamente le preposizioni semplici sia per confrontare rettamente le cose ricercate con quelle che sono già conosciute. A me sembra che tutte le cose che possono essere alla portata della conoscenza degli uomini si susseguono nella stessa maniera di quelle lunghe catene di ragioni semplici e facili delle quali i geometri usano solitamente servirsi per raggiungere le loro dimostrazioni più difficili. Queste, signori, sono soltanto alcune delle argomentazioni con le quali io sostengo le 21 regole che ho fissato per il retto uso della mente umana. Scusatemi, signore, mentre parlavate ho sentito un grande desiderio di leggere le vostre argomentazioni. Ditemi quando le pubblicherete. Non posso dirvi quando le pubblicherò, signori. Chi mi conosce lo sa bene. Sono come un pellegrino, amo viaggiare tra i miei pensieri come amo viaggiare attraverso l'Europa allo scopo di osservare gli uomini e le cose e di poter meglio scoprire le infinite facce della verità e quelle dell'errore. di osservare Signore? Sì, mio caro Bretagna Che cosa succede questa mattina? Ottima giornata, signore Vedo che anche questa notte avete consumato parecchie candele Avete lavorato fino a tardi Signore? Signore? Sì È quasi mezzogiorno Mezzogiorno? Sì, e vi è già qualcuno che vi aspetta da più di un'ora Ma mandalo via È sicuramente un barbaro, se viene a seccarmi ha un'ora simile È un mercante, viene da Parigi Dice che ha per voi una lettera di padre Mersenne Volete che lo mandi via? Non dire sciocchezze Vai, digli che adesso mi vesto e lo ricevo subito Ah, avverti in cucina che preparino il pranzo per due Sì E di che lo voglio ricco e succulento Bene, signore Deve essere proprio un ospite importante Se il tuo padrone ha comandato di comprare la frutta più costosa che c'è al mercato Da questa parte Venite Devo dire davvero ai nostri amici parigini che per il momento non avete nessuna intenzione di tornare in Francia Assolutamente È davvero incredibile Che voi preferiate vivere in questa città di mercanti e di marinai anziché a Parigi Che è la città dei doppi Da quando mi sono stabilito qui a Dordrecht non ho desiderato neanche una sola volta di tornare a Parigi Io a dire il vero preferisco questo ritiro Lo preferisco non solamente al silenzio dei conventi dei certosini e degli eremi ma anche alla riservatezza di certe ville di Francia e d'Italia Nelle quali di solito ci si rifugia per studiare tranquilli Nelle ville mancano sempre molte delle comodità che si trovano in città come queste Ma Parigi è una grande città Ma sono troppo conosciuto Invece qui non vi è nessuno, me eccettuato, che non eserciti la mercatura Ed ognuno è talmente preso dai suoi interessi Che io potrei starmene qui anche tutta la vita senza essere mai disturbato da anima viva Vi è una scuola di lettere latine Ed in questa scuola All'infuori dell'unico mio amico Beckman Nessun altro che io sappia è interessato alle cose che occupano la mia mente Vado a passeggiare tutti i giorni In mezzo alla confusione di un grande popolo Con la stessa libertà e con la pace Che voi potete trovare in una villa di campagna E guardo Gli uomini che incontro Come guarderei gli alberi e gli animali di una foresta Il rumore stesso del loro traffico Non riesce a interrompere il mio fantasticare Più di quel che farebbe Il mormorio di un ruscello E poi ditemi Voi che viaggiate In quale altro paese al mondo Si potrebbe godere di una libertà Così completa come in Olanda Ma il clima L'inverno qui è molto duro L'umidità della nebbia corrode le ossa È sufficiente avere una buona stufa E basta non uscire di casa Se è cattivo tempo Siete un invincibile testardo Tra due settimane Potrete passare a ritirare la mia risposta Alla lettera di padre Mersenne Che mi avete portato Speravo che me la deste subito No La risposta a padre Mersenne Richiede molta riflessione E non posso adesso interrompere Un nuovo difficile studio Che sto compiendo sull'ottica Tornerò a Dordrecht solo alla fine del mio viaggio Tra 30 giorni Lascerò allora il plico per voi Alla padrona della locanda Io tra un mese non sarò più qui E dove sarete? Ancora non lo so E invece io sono persuaso Che lo sapete benissimo Ma che non lo volete dire Si racconta Che quando scrivete agli amici di Parigi Datate misteriosamente le vostre lettere Non dal luogo dove abitate Ma da altre località Amsterdam, Leida Insomma un posto In cui si è sicuri di non trovarvi È molto difficile Trovare della frutta così bella a Parigi Qui in Olanda ne arriva un'infinità Dalle Indie occidentali Siete certo che non faccia male gli intestini Assolutamente È molto meno indigesta Dei discorsi di certi dottori Io vi ringrazio Vi ringrazio infinitamente Per avermi messo a parte Del vostro punto di vista sull'iperbole Ma nello stesso tempo Mi dispiace che siete venuto anche a dirmi Che avete deciso di partire di nuovo Siete irrequieto come nessun altro uomo Gli abbia mai conosciuto Ditemi almeno dove andate Vado a Franeker E così vi perderò un'altra volta Dieci anni fa Quando siete partito da Breda Voi mi avevate promesso Che non mi avreste lasciato mai Senza vostre notizie Ed invece avete taciuto per dieci anni Ed ho aspettato in vano i vostri testi sulla meccanica E quelli sull'algebra E li aspetterò ancora perché non li avete scritti Avete ragione a rimproverarmi La vostra mente è stata creata adatta alle matematiche E secondo me fate molto male A sprecare il vostro tempo e i vostri talenti In discipline che non vi si confanno La mia mente è attirata dalle matematiche Ve l'ho ripetuto molte volte mi sembra Solo perché esse si svolgono con procedimenti Che a mio avviso Sono in grado di dimostrare Le verità metafisiche Con una maggiore evidenza Di quella che solitamente viene raggiunta Servendosi delle dimostrazioni della filosofia E' questa vostra sicurezza che mi sembra eccessiva Voi ritenete possibile applicare alla metafisica? È possibile Avete letto ciò che ho dimostrato in questo foglio? I raggi, come vedete Colpiscono la lente in posizione parallela La lente ne devia il corso Ed essi convergono e coincidono perfettamente in un punto Tutto appare chiaro, semplice, evidente E voi avreste la pretesa Di portare la medesima chiarezza E la medesima semplicità Nelle dimostrazioni filosofiche Servendovi dei procedimenti delle matematiche Mio caro amico Voi forse perdete di vista il fatto Che la filosofia non considera solamente Quelle che sono le realtà materiali Ma attraverso le vie della ragione Guida l'uomo verso la contemplazione di Dio Siete sicuro che i procedimenti della matematica Siano idonei per loro stessa natura Ad avvicinare la mente dell'uomo Ad una realtà così sottile Come è quella di Dio Caro Beckman Ho scritto di questo al padre Mersenne E lo ripeto a voi E lo ripeterò a tutti coloro I quali mi solleveranno obiezioni Su questo punto Io non parlerò mai Delle cose della teologia Mai Essi dipendono da verità rivelate Attraverso la parola di Gesù Cristo E dei Suoi profeti Ma quanto alle questioni della filosofia Io dico invece che esse devono essere esaminate Tutte con la ragione umana E' attraverso questa strada Che io ho provato i fondamenti della fisica Ed attraverso la medesima strada Al di là delle scienze fisiche Io sono fermamente convinto Di poter dimostrare le questioni della filosofia E della metafisica Quanto poi al quesito che mi avete posto Se i procedimenti matematici Siano Per la loro stessa natura Idonei ad avvicinare la mente dell'uomo Al mistero di Dio Io vi rispondo Che tutto il creato E' opera sua E le verità matematiche Che dipendono da lui Sono anch'esse opera sua Come tutto il resto della creazione Dire che tali verità Sono avulse e indipendenti da lui Sarebbe come paragonare Il Dio a un Giove O a un Saturno Sarebbe come volerlo sottoporre A una realtà esterna da lui E da lui indipendente La chiarezza delle matematiche Le loro regole Vengono da Dio E vi sono sottoposte Perché quindi si deve aver timore Che esse possano venire utilizzate Da noi uomini Quale strumento Per conoscere tutte le verità Come sempre i vostri ragionamenti Sono esatti ed acuti E mi dispiace che la vostra partenza Mi privi per l'avvenire Della consolazione di poterli ascoltare Vi scriverò A questo non credo affatto Mi conoscete poco caro Beckman Il pensiero della vostra amicizia Sarà sempre di grande conforto per me Il sangue di tutti gli esseri viventi Palpita entro le vene E viene mosso e spinto Da ogni parte contemporaneamente E così le vene pulsano tutte Nello stesso istante Perché tutte dipendono dal cuore Che le muove continuamente Questo è quello che ci ha insegnato Aristotile Che come tutti gli antichi Chiamava vene Quelle a cui noi oggi Diamo il nome di arterie Il cuore è la causa Di questo movimento Il cuore dell'anguilla Per esempio Una volta estratto E posto su di un tavolo O su di una mano Si comporta chiaramente così Ed è lo stesso anche Per il cuore dei pesci piccoli E di tutti gli esseri a sangue freddo Anche se nei pesci E in tutti gli esseri a sangue freddo Come i serpenti e le rane Il cuore è più pallido Quando si muove Mentre nei momenti di stasi Riprende il suo colore rosso vivo Queste osservazioni Signori Non sono le mie Io posso dirvi solo Che le ho confermate Con la mia esperienza Perché ho operato Molte vivisezioni E dissezioni Di animali di terra E di mare Queste osservazioni Sono state scritte Per la prima volta In un libro Che il tipografo Willen Freezer Ha stampato a Francoforte Con il titolo De motu cordis Et sanguinis in animalibus Scritto da un uomo Che io reputo Tra i più grandi Della scienza del mondo Sir William Harvey Egli ne ha fatto omaggio Nel 1628 Al serenissimo Ed invitto Carlo Re di Gran Bretagna Harvey scrive Il cuore degli esseri animati È il fondamento della vita Il signore di tutto ciò Che è connesso alla vita Il sole del microcosmo Dal cuore dipende Ogni atto vitale Dal cuore proviene Tutta l'energia E tutto il vigore Allo stesso modo In cui il re È il fondamento Del suo regno È il sole dello stato Il sangue Riesce a giungere Nelle parti più estreme Del corpo Per mezzo delle arterie Ed attraverso Dei condotti Sempre più sottili Spargendosi All'interno dei tessuti Li irrora Dà ad essi vigore Li fa vivere Le vene A loro volta Lo raccolgono E lo riportano Al cuore E ciò Determina Un circuito perenne Cioè Voi sostenete Che il sangue È vivo Nel corpo degli animali Dei pesci E degli uomini Senza nessuna influenza esterna Negate l'influenza Degli astri Certamente Certamente Quando si dissezionano i corpi E si osserva la vita pulsare All'interno di un organismo Ci si convince Che molte dottrine Sostenute fino ai nostri giorni Dagli uomini di scienza Che ci hanno preceduto Sono delle pure fantasie Scoprire i segreti Della natura Costringe lo studioso Ad un lungo travaglio Bisogna osservare Misurare Calcolare Confrontare Per giorni e giorni E se non basta Per anni e anni Bisogna saper correggere Con umiltà I propri errori E se necessario Cominciare da capo Senza nessuna presunzione La via del sapere È terribilmente lenta E non ha niente a che fare Con le eccitazioni illusorie Della fantasia Le vostre sono parole Illuminate signore E troppo raramente Si odono Tra i dotti Di questo nostro tempo Essi preferiscono Credere infallibili Le favole Che gli antichi Hanno scritto Sulla natura del mondo Voi allora condividete La dottrina del dottore? Certo che la condivido Anche io ho operato Dissezioni Sui pesci E su molti altri animali Ed anch'io Sono convinto Che il sangue circola Nel modo In cui il dottor Harvey Ha insegnato Ed aggiungo Che secondo il mio avviso Il sangue È effervescente Per sua stessa natura E che Il suo continuo ribollire Nel cuore È la causa Delle pulsazioni Che si constatano In tutti i corpi viventi Su questo punto signori Convengo con la dottrina Di Aristotele Il cuore è un vaso Molto caldo E questo spiega facilmente Il meccanismo Del moto cardiaco È come un focolare Nel quale sono contenuti E conservati La materia Ed il principio Del calore innato Da cui si trasmette A tutti gli altri organi Su questo particolare Su questo particolare Non sono d'accordo con voi Come dice il dottor Harvey I movimenti del cuore Consistono in rapidi Rapidissimi battiti In colpi istantanei Prodotti come da un muscolo Mentre questo processo Di ebollizione Di cui voi parlate Non ha relazione Con tutto ciò In un processo di ebollizione Come voi sapete Non si può verificare Che un lento salire E un graduale Discendere Mentre al contrario Nel cuore di qualsiasi Specie di animale Noi abbiamo invece Dei battiti velocissimi Ho bisogno di riflettere Ancora Su questo punto Io mi auguro Che voi veniate Tutti i giorni qui In questa università A confrontare Le vostre riflessioni Con le nostre Mi dispiace tanto Di non poter tornare Tra voi Perché apprezzo Molto la vostra dottrina Ma nei prossimi giorni Mi recherò ad Amsterdam Dove mi incontrerò Con altri dotti Fate bene signore Molto bene Io vi invidio Nel nostro secolo Non è più possibile Acquisire dottrina Se non viaggiando Visitando le università E confrontando tra loro I diversi pareri Dei dotti Bisogna liberarsi Come ha scritto Bacone Degli idoli Della falsa filosofia E costruire Una nuova scienza Su questo punto Siamo d'accordo signore Nello stesso anno In cui il cardinale Richelieu assediava la Rochelle Wallenstein In Germania Assediava Strapsund Alle foci dell'Oder Richelieu però Ha vinto alla Rochelle E gli uganotti Sono stati sconfitti Invece Wallenstein È stato costretto Ad abbandonare l'assedio E a ritirarsi Sì Quell'anno lì È stato fatale Si è dovuto piegare Davanti agli svedesi E il suo bambino È morto Il suo erede L'unica speranza Per la sua discendenza Tre anni fa Nel 1630 Mi trovavo a Tisbona Per un commercio E proprio in quei giorni La dieta dei signori Di Germania Chiese ed ottenne Dall'imperatore Il licenziamento di Wallenstein Che pure Era stato un gran condottiero Le sue truppe Erano odiate In tutta la Germania Non si erano visti mai Soldati più tracotanti E violenti Dei suoi Mai E ricordo anche Che non si trovava nessuno Che avesse il coraggio Di andare a portargli La notizia Della sua destituzione Ma una volta destituito Hanno dovuto richiamarlo A gran voce Quando dopo tante sconfitte Non vi era più nessuno Capace di mettersi Alla testa Delle truppe imperiali Dei cattolici Contro l'esercito Di Gustavo Adolfo di Svezia Che era giunto Fino al Danubio Wallenstein Ha potuto fermare Gustavo Adolfo Solo perché Gustavo Adolfo È morto Sul campo di battaglia È stata questa La fortuna Degli Asburgo E della Lega Cattolica E non siete più tornato In Baviera? Una sola volta A Monaco Per vendere Una grossa partita Di spezie Ma da quando È stata ripresa La lotta Tra gli eserciti Dei principi cattolici Contro quelli Dei protestanti Ho preferito Mandare i miei commessi Le strade Sono poco sicure E poi vi sono Intere regioni Flagellate Dalla carestia E dalla peste Ovunque Da Augusta Al Wittenberg Dalla Turingia Al Palatinato Uno dei miei commessi Mi ha detto Di avere visto In Bohemia Branchi di Rupi Spingersi Fin dentro Alle città È incredibile Che si facciano Terribili guerre Qui in Europa Proprio adesso Che il mondo Sta diventando Sempre più grande E ci sarebbe Più spazio Per tutti Le Indie Occidentali E le Indie Orientali Rigurgitano Di ricchezze Delle quali Tutti potrebbero Profittare La fortuna La fortuna di noi Olandesi È che i principi europei Non se ne sono ancora Accorti Così Mentre loro Si fanno la guerra L'un l'altro La compagnia Delle Indie Orientali E la compagnia Delle Indie Occidentali Nel corso Di questi ultimi Trent'anni Ci hanno procurato Tanti affari E tanto denaro Che i forzieri Dei nostri banchieri Sono molto più ricchi Di quelli del re di Spagna Di questo Se ne sono accorti Anche gli inglesi La nostra flotta È molto più potente Della loro E i nostri marinai Sono certamente più valenti Venite Voglio presentarvi Un mio amico Giunto ieri Dalle Indie Orientali Sono i modelli Delle navi Che ha costruito Mio marito Questa è la Beatrix Pesa mille tonnellate È una delle navi Più grandi Armate in Olanda Porta il nome Di mia figlia Questa invece È la seconda La Muiden Che adesso Si trova Nelle Indie Orientali Le navi Scivolano Tra il mare E il fluido Dei cieli Seguendo la curva Della sfera terrestre Signor Descartes Sono certa Che vi piacerà molto Un'automa Che mio marito Ha comprato Presso un meccanico boemo Signori Voi conoscete già Il mio automa Sì Signori Volete venire A vedere il mio automa Un'automa Un'automa Vedete, signor Descartes, è quasi una magia Non è versa neanche una goccia Chiunque lo ha visto dice che non esiste al mondo un automa così perfetto Voi cosa ne dite, signor Descartes? Ah, non oserei mai contraddirvi, signora È un meccanismo perfetto Utilizzando pesi, contrappesi, leve, snodi, ingranaggi, ruote di diverse dimensioni e tiranti È possibile imprimere anche a una materia inanimata qualsiasi movimento Facendole compiere dei gesti simili a quelli che compiono gli uomini O gli animali Ma le ossa e i muscoli di un uomo sono una macchina viva La più grande macchina però è quella dei cieli Il signor Descartes è certamente d'accordo con me L'astronomo Ciprus è Costantino Wiggins, signore dei Zwilichem Vi conoscete? Sì, sì, certo Oh sì, ci conosciamo Avete ragione L'universo intiero è una grande meccanica Scusatemi se vi ho interrotto Ma ci tengo ad avvertire il signor Descartes che domani inizierò le mie nuove osservazioni astronomiche Oh, siete molto gentili E mi farete un grande onore se vorrete assistermi Verrò senz'altro Vi ringrazio Effettivamente sono molto interessato alla meccanica dei cieli Osservate È uno strumento delicatissimo Ed è possibile muoverlo in qualsiasi direzione Senza alcuna oscillazione Al calar del sole inizierò le mie osservazioni Signori Il cannocchiale ci ha svelato i movimenti dei cieli Come dice Bacone L'uomo è ministro e interprete della natura Ed egli può comprenderla soltanto osservando attraverso l'esperienza e l'intelletto L'ordine di essa Egli non sa nulla di più Ne potrebbe sapere di più Nulla, veramente nulla Ed è l'ignoranza delle cause che ci toglie la conoscenza degli effetti E ci impedisce di agire sulla natura secondo le sue leggi E quindi ci impedisce di assoggettarla a noi Anche questo è un pensiero di Bacone Perché non si vince la natura che obbedendole E quando ignoriamo le cause Le nostre spiegazioni dei fenomeni naturali Nascono dalla nostra fantasia E Dio sa quanto la nostra fantasia sia fallace Ogni secolo ha le sue mode Ma poi le mode passano E il mondo rimane sempre lo stesso Ho molta ammirazione per voi, astronomo Ciprus Siete il più esperto astronomo che io conosca Ma se mi permettete di dirlo Seguite in questo momento una moda perniciosa Incitate le follie di alcuni innovatori Che io non approvo in nessun modo Beh, ma non vi sembra di esagerare un po' Stimo la vostra dottrina Ma non vi posso approvare Quando pretendete di andare a scoprire nei cieli Nuovi pianeti con questi vostri strumenti Che non si sa se siano più o meno fallaci dell'occhio umano E soprattutto quando pretendete di aggiungere Senza alcuna prudenza nuovi pianeti a quelli già conosciuti Non riesco a comprendere come scoprire un nuovo pianeta Possa essere un'imprudenza È un'imprudenza estremamente grave Perché facendo così che quelli come voi Hanno rovinato l'astrologia E distrutto tutte le sue connessioni con la medicina Hanno aggiunto ai disegni dei cieli Nuovi astri senza pensare alle conseguenze Hanno rotto l'ordine dello zodiaco Hanno sconvolto le qualità note delle stelle fisse Il calcolo dei mesi nella formazione dell'embrione L'influenza e le ragioni degli astri Nel corso dei giorni critici E altre innumerevoli verità Che dipendono tutte Tutte dal numero settenario dei pianeti Allora a vostro avviso Bisognerebbe fermare ogni progresso della scienza Soltanto perché ad alcuni Da fastidio rimettere in ordine i loro vecchi manuali Non bisogna aver paura di scrivere nuovi trattati Nuove summe Nuove spiegazioni Della struttura del mondo Se no si giunge al paradosso di Martin Horky Non ho mai sentito parlare di questo signore Un presuntuoso Che quando vide attraverso il cannocchiale Il vero disegno dei cieli Rimase turbato perché ciò che vedeva Non corrispondeva ai disegni degli astri Che aveva studiato sui manuali Scrisse allora a Keplero Che il cannocchiale Quando viene rivolto alle cose terrestri Fa meraviglia Esso ingrandisce gli oggetti E riesce a scoprire tutto ciò Che si vede a occhio nudo Ma puntato verso il cielo Non serve a nulla Io approvo le teorie di Keplero Ho verificato molte delle sue osservazioni E ho rifatto molti dei suoi calcoli Se non fosse morto due anni fa Sarei andato a trovarlo a Lisbona Dove si era rifugiato a causa delle guerre di religione Per ricevere la sua approvazione Le orbite dei pianeti Sono delle ellissi Di cui il sole occupa uno dei due fuochi Quando Keplero fece i primi calcoli Traendoli dalle osservazioni del suo maestro Tico Brahe Commise solo un errore Che poi del resto corresse Scambiò le ellissi per degli ovali L'idea genialissima di Keplero Fu quella di rappresentare Le osservazioni sul corso degli astri Come si sarebbero potute rilevare Osservandoli dal sole anziché dalla terra Egli calcolò in 687 giorni il percorso intiero Cioè la rivoluzione di Marte Lungo la sua ellisse attorno al sole Risolvere Rivoluzionare Significa ritornare continuamente al punto di partenza Alla fine di ciascuna ellissi infatti Il pianeta ritorna nell'identico posto del cielo Questo posto e il posto del sole Sono i due punti fissi Ai quali egli si riferì Per poter determinare la posizione della terra Con questa specie di triangolazione dei cieli Keplero è riuscito a calcolare Il percorso di ogni altro pianeta attorno al sole La velocità E le distanze tra i pianeti Questi studi sono di grandissima importanza Per esempio la terra Ci appare molto più grande Di tutti gli altri corpi celesti E la luna e il sole Ci appaiono più grandi Di tutte le stelle Ma se noi correggiamo il difetto della nostra vista Per mezzo di ragionamenti geometrici Che sono gli unici ad essere infallibili Noi ci renderemo conto Che la luna è lontana da noi Diciamo all'incirca 30 volte il diametro della terra Ed il sole 6 o 700 diametri E confrontando queste distanze Con quello che è il diametro apparente Del sole e della luna Troveremo che la luna È più piccola della terra E che il sole È molto molto più grande Avreste per casa anche voi L'intenzione di aggiungere qualche nuovo pianeta A quelli già conosciuti Vedo che anche voi Vi siete lasciate citare Dalle mode degli innovatori Io non sono un innovatore Cerco semplicemente Di riuscire a scoprire Con assoluta certezza Il vero volto dell'universo Spero che vi sarete almeno reso conto Che l'universo è immenso E il suo vero volto è molto lontano da voi In attesa del buio Scaldiamoci ancora con del cioccolato E adesso signori Vi mostrerò qualcosa di meraviglioso Dirigerò il cannocchiale Verso le pleiadi Spengo la lucerna Ecco signori Ammirate le pleiadi Devo ammettere che funziona Le meraviglie dei cieli Come basta il cielo Vi prego Non vi muovete signore Scusate Avete concluso il vostro studio sulle meteore? Sono quasi al termine Quando partite per Deventer? Domani Signora Scusatemi Il dottor Gerolamos Tra poco sarà qui con la lettera Che vi ha chiesto di recapitare Al signor Regnier A Deventer Sì lo conosco Il dottor Gerolamos È un grande voratore di libri Credo che non esista libro in Amsterdam Che egli non abbia letto Un uomo da bene Non ha l'obbligo Di aver letto tutti i libri Vi sono molte altre cose da fare Durante la vita E il sapere Non dipende soltanto Da ciò che l'uomo ha letto Ma da ciò che ha visto Avete ragione Signore Avete ragione anche voi Ecco il teologo Gerolamos Venite avanti dottore Il signor Huygens Mi ha detto delle cose notevoli Sul vostro conto Sembra che abbiate letto Tutti i libri Che vi sono in questa città No non tutti E me ne dispiace Non ho potuto però Trovare nessuno dei vostri Ho scritto poco E le mie opere Non sono ancora diffuse Me ne è rammarico Perché ho appreso dal signor Huygens Le vostre dottrine Sul retto uso dell'intelligenza E le trovo molto pratiche Il signor Regnier a Deventer Lo apprezzerà molto E voi le apprezzate signore? Dite la verità al signor Descartes Ripetetegli cosa mi avete detto Sono imbarazzato Non ne vedo la ragione Mi sembrano il frutto Di un'incommensurabile superbia E' come se voi voleste togliere Alla ragione umana La soggezione Al suo creatore E alla Bibbia A cui Voi non fate assolutamente cenno Questo me l'hanno rimproverato molti Eppure posso assicurarvi signore Che io lavoro in tutta umiltà Guardando dentro le cose Perché ritengo Che le cose Sono creature di Dio E portano il segno Della verità Mentre le fantasticherie Degli uomini Da cui nascono tante oscure dottrine Sono quelle Frutto di superbia Quando io ho scritto il mio trattato Sulla diottrica Non mi sono affidato alla fantasia Ho tagliato ed esaminato Innumerevoli occhi di animali E con le opportune licenze Anche quelle di uomini morti Ho per esempio osservato Che il nervo ottico E' composto Da un grande numero Di piccoli filamenti E che esso E' uno dei mezzi materiali Per la formazione dell'immagine La cui natura rimane pur sempre Un misterioso dono Della bontà divina Ora mi sembra Che questo procedimento di ricerca Sottoposto All'unico controllo della ragione Che compone insieme Dati semplici E deduzioni precise E' secondo me Un lavoro umile Il dottor Gerolomos Apprezza certamente La vostra difesa L'apprezzo molto signore Ma Non intendo mettervi sotto accusa Voi certamente Lavorate In umiltà Ma senza volerlo Tentate la superbia Dell'uomo Che trova nella vostra dottrina Le ragioni Di una indipendenza Senza limiti Ma Sono certo Che darete Molta consolazione Al signor Regnier E ai suoi allievi Essi purtroppo Vi acclameranno Data la loro smodata Passione per le scienze Non mi stancherò mai Di riprovarli Ecco cosa ho scritto a Regnier Quanto al vostro smodato amore Per il sapere Io vi ricordo le parole Del nostro padre Calvino Il desiderio che l'uomo ha Di conoscere la verità E' una scintilla di luce Ma questo desiderio Degenera in vanità Perché lo spirito umano E' così ottuso E debole Che non può mantenere Da solo la retta via Nella ricerca della verità E il più delle volte E' incapace di discernere L'oggetto A cui deve applicarsi Per cercare La vera conoscenza Lo spirito dell'uomo Decaduto Della sua integrità E tuttavia Ornato di eccellenti doni Di Dio E' troppo infermo Come dice la scrittura Per farci da guida In ogni occasione Della nostra vita Se non è soccorso In ogni istante Dalla luce Della grazia divina Mi sarò grato Se vorrete portare Questa lettera Al signor Regnier Con i miei saluti E vi assicuro Che stimo molto La vostra passione Per la verità La provo anch'io Ma al tempo stesso La temo Bretagna E' tardi Anche stamattina Non ce la fa ad alzarsi Da quando siete arrivato La febbre non vi ha mai lasciato Mia cara Elena Non riesco più ad alzarmi Sento che Non mi alzerò più Mai più Chi ha provato il male Gusterà meglio il bene Andrò a svegliarlo io Il vostro padrone Grazie a tutti Non c'è lungo giorno Che non arrivi a notte Signore Il brodo è lì Il vostro servo Ha sempre la febbre Non può muoversi E voi alzatevi Perché volpe addormentata Rimane a bocca asciutta Siete impertinente Che ore sono? Mezzogiorno passato Il tempo è la marea Non attendono nessuno Già mezzogiorno Chi mangia Campa Chi digiuna muore Buongiorno Deve essere un dottore famoso A Deventer Non si fa che parlare di lui Quando passa Non guarda mai nessuno in faccia E gli studenti dell'università Lo salutano con rispetto Sarà magari famoso Come dite voi Ma un proverbio dice Fatti una buona reputazione Dormi senza preoccupazione Certo E abitudini insolite Vive chiuso nella sua stanza Che è la più sporca E la più disordinata Di tutta la locanda Per me L'ordine è pane Il disordine è fame Signori Ho l'onore di presentarvi Il signor René Descartes È venuto a studiare tra noi È un francese Che ci ha fatto l'onore Di venire a Deventer Ha scritto Sulla meccanica E sulla geometria Sulla astronomia E sulla matematica E ha fissato regole preziose Per la guida Per la guida dell'intelligenza Il signor Descartes Aborrisce Le oscurità Della filosofia scolastica Come parecchi di noi E d'altra parte Che io ho invitato il signor Descartes A presentarci ciò che intende scrivere In un suo trattato Al quale lavora da molto tempo Ormai Io vi prego di ascoltarlo Ringrazio per l'invito Gli illustri maestri di questa università E il signor René E sono lieto di esporvi Quanto desiderate conoscere Io ho intenzione di scrivere Nel mio trattato Tutto ciò che può spiegare La natura Delle cose materiali Per poter esprimere più liberamente Il mio pensiero Senza essere obbligato a seguire O a confutare le comuni opinioni Dei dotti del nostro tempo Ho deciso di lasciare da parte Le immagini limitate di questo mondo Nel quale viviamo E il suo disegno E di parlare solamente Di ciò che potrebbe avvenire In un nuovo mondo Che farò nascere per il mio lettore In uno spazio immaginario In esso Condurrò per mano Il mio lettore Così lontano Fino a fargli perdere di vista Tutto quello che Dio creò All'inizio dei secoli Cinque o sei mila anni or sono Ci fermeremo allora finalmente In un punto determinato degli spazi E supporremo Che Dio Crei nuovamente attorno a noi Tanta materia Che la nostra immaginazione Da qualunque lato si estenda Non possa assolutamente Vedere un solo luogo Un qualsiasi spazio Che sia rimasto vuoto Questa materia Di cui io parlo Non ha nulla in comune Con la cosiddetta Materia primaria Dei filosofi Che essi hanno così ben spogliato Di forme e qualità Al punto che nulla È rimasto di essa Se non una vaga Astrazione concettuale Molto difficile Da concepire E dato che ci prenderemo La libertà Di disegnare Questa materia Secondo la nostra immaginazione Ci prenderemo anche quella Di attribuirle una natura Nella quale Non vi sia nulla Per cui ognuno Non possa conoscerla Con tutta la perfezione possibile Supporremo allora Che Dio divida Questa materia In parti diverse Alcune più grandi Altre più piccole Le une con certe forme Le altre con forme differenti Come ci piacerà immaginarle Ma senza che si determini mai Tra esse Alcuna separazione In modo da evitare Che tra loro Vi sia del vuoto La differenza Che Dio porrà In queste parti Della natura Consisterà nella Diversità del movimento Che egli vi imprimerà In modo che Fin dal primo istante Della creazione Esse possano continuare A muoversi Secondo le leggi ordinarie Della natura Che intendete per natura Quando parlo di natura Io non intendo Una dea O qualche altra Potenza immaginaria Mi servo di questa parola Per indicare La materia stessa Così come Dio Continua a conservarla Così come Egli l'ha creata Allora Quando la natura Lo avete appena detto Subisce dei cambiamenti Nelle sue parti Non ritenete Che ciò possa attribuirsi All'azione divina E tutto dipende Dall'azione divina Dio ha stabilito Delle leggi Assolutamente perfette Anche se volessimo supporre Che Egli all'inizio Abbia creato Solo il caos Più confuso Di quello Che tutti i poeti Insieme possono immaginare Le sue leggi Sono sufficienti A dirigere Tutte le parti Di questo caos In modo che si dispongano Armoniosamente In un ordine esatto Che avrà La forma Di un mondo Perfettissimo Nel quale si potranno Vedere chiaramente Non solo la luce Ma anche Tutte le cose Esistenti Di qualsiasi natura E forma Che appaiono In questo vero mondo Nel quale viviamo Nel vostro mondo immaginario Vi saranno decchianiti Un sole Certo Ed una luna Una terra Degli uomini Degli uomini Nati e composti Come noi Di un'anima E di un corpo Di essi Di essi adesso Descriverò Separatamente Il corpo Innanzitutto Poi Descriverò L'anima E infine Dimostrerò Come queste due Nature Debbano essere Congiunte Fra di loro Per potere Dare vita A degli uomini A noi Identici Supporrò Che il corpo Non è niente Altro che Una statua Un mucchio Di terra Che Dio Forma Espressamente Facendola Ad immagine E secondo Il disegno Del nostro corpo E infine Spiegherò Che quando L'anima pensante Sarà posta Da Dio Dentro questa macchina L'anima Avrà la sua sede Principale Nel cervello Dal quale Dirigerà Tutti i movimenti Dell'uomo Tale Signori Sarà la mia Favola del mondo Uno scritto Che come tutte le favole Avrà Lo spero La sua utilità Perché permetterà Di comprendere meglio Questo mondo Nel quale viviamo Ve lo avevo Preannunciato Signori Quest'uomo È l'unico Archimede Del nostro secolo È l'Atlante Dell'universo È un confidente Della natura E risponderà Posso assicurarvelo In modo mirabile E strabiliante A tutte le domande E a tutti i quesiti Che voi vorrete porgli Sui segreti E sull'ordine Della natura Fino a quando Potrete fermarvi Con noi signore Fino a questa sera E avrò tempo Per rispondere A tutti i vostri quesiti Rivederci Buonanotte Ma siete finalmente tornato È tutto il giorno Che chiama il vostro nome Scotto dalla febbre Sto molto male Aiutatemi se potete Bollitegli una pozione Con un bicchiere di vino Alcuni chicchi di uva Di damasco Due grani di isoppo Dieci di finocchio Ed anice Fino a ridurre Il liquido di un terzo Questo è per la tosse La febbre Si spegnerà da sì Quei tre signori Vi stanno aspettando Sono francesi Adesso parlerò con loro Povero Bretagne Come farò senza di lui State di vicino Sono Descartes Avete chiesto di me? Sono un mercante di pelli pregiate Signore Mi chiamo Antoine Poquet Padre Mersenne Mi ha pregato di passare da voi Per ritirare il vostro nuovo trattato Che gli avevate promesso di Non l'ho finito signore Direte a padre Mersenne Direte a padre Mersenne Che lavoro giorno e notte Al nuovo testo E che ad una prossima occasione Spero Prima di Natale Glielo inviero Vi saluto signori Oh buon dio Oh no Già volete che lasci il letto Le ore del mattino Hanno l'oro in bocca Ma è spaventosa Non capisco cosa cerchiate Nelle viscere degli animali Non sapete che è proibito Fare della magia È peccato mortale Ma non faccio della magia State tranquilla Ma è cosa allora Fate sempre cose strane Ma ricordate Un peccato tira l'altro Ma insomma Perché mi avete preso Al vostro servizio Per farmi impazzire Con il vostro disordine Non vi avevo mai vista Così adirata Voltatevi Voglio alzarla Di mille carte E di strumenti strani Un uomo del vostro rango Della vostra condizione Che vive come l'ultimo Dei pezzenti Nobiltà poco si apprezza Se manca la finezza Vi lamentate Come faceva il povero Bretagne Tanto è inutile Chi parla semina E chi ascolta raccoglie Dovrebbe raccogliere Mi dispiace che Bretagne sia morto Di non averlo più con me Un colpo di lingua È peggio Di un colpo di lancio Bretagne non si adirava mai Quando vi adirate voi però Siete certo più carina Non sono affatto adirata La luna non bada mai Al cane che abbaia Ma Bretagne aveva ragione A brontolare contro di voi Perché In fondo parlare delle proprie pene È già consolarsi Fate della filosofia? Della filosofia? Cos'è la filosofia? Io sono un filosofo Amo la saggezza Voi? Voi siete matto Io sono saggia Può darsi Ci serve una casa più grande di questa Avete ragione Elena Così non vi inquieterete più Quando mi dedicherò A certi lavori Quando la volpe fa la morale Povere le mie galline No Elena Sto parlando seriamente Abiteremo ad Amsterdam Parola pronunciata Non può essere rimangiata Ricordatevelo Chi promette S'obbliga Il più saggio Cede Mi perdonate? L'ammiraglio A procurarsi un bulbo preziosissimo Il Semper Augustus L'ha pagato 5500 fiorini Ma è il più bel tulipano del mondo Lo potrebbe rivendere subito A 6.000 fiorini e anche più La vostra padrona è ricca E chi ha i denari ha coraggio L'avete visto già fiorito? No, non ancora Ma sull'album a colori della mia padrona È dipinto così bene Che sembra vero Il calice è di un bel bianco puro Leggermente macchiato di blu alla base Con una striscia color rosso fiamma Che corre lungo ogni petalo Una meraviglia Quei disegni non potrò mai comprarmeli Sono troppo cari per me Se non me li aveste mostrati Saprei ben poco dei tulipani Io vi informo Ma tanto lo so che è tutto inutile Non volete rischiare neanche un fiorino Che non ho nulla come me Non può rischiare Voi perdete la fortuna per troppa prudenza Il nostro maniscalco Jakob Daric Lo ricordate? Si è indebitato Fin sopra i capelli Per comprare il generale dei generali E se lo ha fatto Vuol dire che è sicuro Di guadagnarci bene no? E il signor Goode Ha venduto la sua casa Per cinque bulbi rari E lui di affari se ne intende Sì ma io sono una donna di casa Il pittore è Jan Van Gogh Lo sapete che ormai Si fa pagare i suoi quadri Soltanto con bulbi di p***i Anziché con i fiorini Mio nonno mi raccontava Che suo padre Come tutti a quei tempi Faceva acquisti pagando con ringhe Quella sì che era una moneta sicura Perché nutriva Ma questa mania per i tulipani È proprio sciocca Oh siete sciocco voi Tutti ci speculano Specialmente i gran signori Che sanno il fatto loro Infatti è dalla Francia Che viene la maggiore richiesta Oh che Dio mi perdoni Ho fatto tardi Devo andarmene di corsa Grazie mia cara Ah sentite un po' Quanto può valere oggi Il mio rosso giallo di Cotley? Rallegratevi molto Non meno di 2500 fiorini Vado ad aprire No avete le mani sporche di grasso Vado io ad aprire È vero che i tulipani non si mangiano Ma la loro bellezza oggi ha molto valore Si sa è un bel piumaggio che fa il bell'uccello Chi desiderate? Sono Jean Mère Il tipografo Il signor Descartes mi ha fatto chiamare Entrate I vostri panni hanno un odore insopportabile Sono gli odori del mio mestiere L'anellina e il piombo degli inchiostri Mi dispiace molto Vi sentite male? Non è nulla Aspettate un momento Il tipografo Fatelo entrare Entrate Buongiorno signore Sono venuto per darvi la mia risposta Sono d'accordo Stamperò il vostro trattato Vi ringrazio Spero di terminarlo Nei prossimi giorni È il vostro odore Scusate Ci vorrebbe un po' di aceto Per farla rimettere È più facile consigliare Che fare Jean Jean Signore Vai a chiamare il dottor Plempius Corri Bene Ho visitato la paziente Che avete trovato? La paziente sta bene Direi benissimo Allora Come spiegate lo svenimento? Non so se la notizia la giudicherete buona o cattiva Ma la paziente non ha alcuna malattia Non capisco Attende un figlio Un figlio? Sì, un figlio Elena Non dovete vergognarvi Questo è il più bel dono Che mi potevate fare Non abbiate temore Non vi abbandonerò mai Dopo il danno Il pazzo rinsavisce Riposatevi Vi ringrazio La tranquillità nasce dormendo Venite Venite nel mio studio Vi ringrazio di essere accorso subito Dottore E soprattutto Di avermi dato la bella notizia Che sarò padre Jan, del vino Un figlio, mio caro dottore Merita un buon bicchiere di vino Fatemi questo onore Riconoscerete il bambino? Certamente Anche se desidero che la cosa rimanga segreta Per il momento Non per vergogna Ma solo perché temo Voi lo sapete Tutto ciò che può turbare la mia tranquillità Terrete con voi la madre Scriverò al mio amico Regnia Deventer E gli chiederò di trovare un rifugio discreto Così Elena potrà attendere in tutta tranquillità I mesi necessari Se in questi giorni avrò bisogno di cure Sarò a vostra disposizione Non mi fiderei che di voi Ammiro molto La vostra abilità di medico Anche se vi confesso di non condividere le vostre critiche al dottor Harvey Perché? Non potrebbe essere il dottor Harvey nell'errore Scusatemi Ma non riesco davvero a credere Che la vostra conoscenza della fisiologia umana Non vi abbia convinto della evidenza Della sua dottrina Una circolazione del sangue spinta dalle pulsazioni Lascerebbe supporre che ad ogni pulsazione Il cuore riceva una goccia di sangue Ma considerando che in un'ora Si verificano circa 2000 pulsazioni Attraverso il cuore in così poco tempo Dovrebbe passare una quantità di sangue Certamente incredibile La difficoltà è davvero insormontabile Anche se devo ammettere Che l'ipotesi di Harvey è suggestiva Ne discuteremo ancora Però se la dottrina ci separa L'amicizia ci unisce Salute Salute Il signor Descartes Caro Descartes Illustre amico Sono venuto a restituirvi il trattato di Golius Mi fa sempre piacere vedervi Potevate mandarmelo col vostro servo senza disturbarvi Passeggiare per le strade del vostro paese Mi fa sempre piacere Si incontra solo gente intenta al proprio lavoro Come se compisse il più serio dei doveri al cospetto di Dio Anche chi è molto ricco E potrebbe vivere di rendita Spesso lavora ugualmente I signori spagnoli Gli italiani e francesi del XIII secolo Solo 300 anni fa Erano allo stesso tempo capitani Proprietari terrieri Amministratori E a volte uomini di lettere In effetti non sapevano fare bene nessuna di queste cose E se essi vivevano di rendita È soprattutto perché godevano del lavoro compiuto dagli altri Dai contadini Dagli artigiani I soli In quell'epoca fedeli a una loro professione per necessità Un secolo fa Gli umanisti Conoscitori delle lingue degli antichi Pretendevano di parlare di tutto Dall'astronomia all'architettura E alla medicina Per non parlare poi dei filosofi scolastici Pronti a risolvere con i principi di Aristotele Qualsiasi problema della scienza Con il solo effetto Di eccitare la presunzione dell'uomo Il nostro popolo è lontano da tutto ciò Il suo libro è la Bibbia Il suo maestro è Calvino Ascoltate L'eresia di Calvino è inaccettabile Ascoltate cosa gli ha scritto cent'anni fa Anche se lo ritenete eretico E vi assicuro che capirete Dio comanda ognuno di seguire la propria vocazione Attraverso le opere della vita Purtroppo però l'uomo per sua natura Brucia di inquietudine E spesso per leggerezza Per ambizione e per cupidigia Esso è portato a smarrire la sua vocazione Ad abbracciare opere diverse che lo confondono Ed attraverso questa via Nasce la follia del mondo Per timore che questa nostra temerarietà Ci trascinasse lontani da lui E Dio ha permesso il crollo La fine degli stati Dei costumi Delle epoche nella storia passata E affinché non ci smarissimo completamente Egli ha stabilito per ciascuno di noi Ciò che deve fare Senza oltrepassare anche di poco I propri limiti Ogni uomo deve vivere la propria vocazione Umile e obbediente alla sua natura Ricordando che egli vive nella miseria del peccato E nulla può Senza la luce di Dio È vero Sono sagge parole Hanno educato un popolo Anch'io seguo la mia vocazione con fedeltà Ma bruciate di inquietudine E avete una cupidigia di sapere Che vi porta ad abbracciare insieme opere diverse Non vi è alcuna dispersione nel mio lavoro Tutte le parti del mio nuovo libro Che sembrano trattare argomenti diversi Sono al contrario strettamente legate insieme Tutta la filosofia è come un albero Del quale le radici sono la metafisica Il tronco è la fisica E i rami tutte le altre scienze Che si riducono a tre principali Ossia la medicina La meccanica E la morale Intendo la più alta E la più perfetta morale La quale presupponendo Una completa conoscenza delle altre scienze È il più alto grado della saggezza Quando lo pubblicherete? Prima di Natale Avete una mente acuta e limpida Ma io non so come ve la cavereste Con l'autorità della chiesa romana Se per disgrazia Essa vi inquisisse Le vostre dottrine sono una curiosa mescolanza Non vedo perché la chiesa romana Dovrebbe inquisirmi Ciò che io scrivo Non invade mai il campo della teologia Forse pensava allo stesso modo Galileo Galilei Ma si è sbagliato Perlomeno su questo punto Il vostro trattato Io sono sicuro Che non mancherà di incuriosire I teologi romani Ma voi non avete nulla da temere Qui siete molto lontano da Roma I primi tre capitoli Devo ancora fare qualche correzione Sarà l'opera più importante del secolo Pari a quella di Bacone Di Copernico Di Galileo Sarà opera diversa dalle loro Perché molte delle mie ipotesi Sono del tutto nuove Soprattutto per ciò che riguarda La struttura dell'universo Direte qualcosa a proposito Del movimento dei cieli? Non lo so ancora Ho però una ipotesi originale Anche su questo argomento Gli antichi hanno sempre creduto Che la terra fosse il centro dell'universo Tolomeo insegnò questa ipotesi Ma risulta falsa Dopo le osservazioni Compiute negli ultimi secoli Dagli astronomi Poi vi è l'ipotesi di Copernico Secondo lui La terra con i pianeti Gira attorno al sole La terza delle ipotesi È quella del danese Brahe Secondo il quale Attorno alla terra immobile Girano la luna e il sole E attorno al sole Girano i pianeti e le comete Io negherò con la mia ipotesi Il movimento della terra Con più accortezza di Copernico E con maggiore verità di Brahe Spiegherò che la materia dei cieli È fluida Come quella che compone Il sole e le stelle fisse Che i cieli Nel muoversi Trasportano tutti i corpi Che contengono La terra dunque È circondata così Da tutti i lati Da un cielo fluidissimo In cui riposa Senza alcuna propensione Al movimento Essa è portata nel suo cielo Come un vascello Che si è mosso dal flusso E dal riflusso Dell'acqua del mare E siccome gli altri pianeti Assomigliano alla terra Sia motivo di credere Che restano in riposo Anch'essi All'interno dei cieli Che li contengono Quando mi darete Il manoscritto definitivo? Spero molto presto Vi sto lavorando giorno e notte Il vento è pungente oggi Che cosa ci state preparando di buono? Casoli con maiale Ah bene Vi piacciono? Sì ma cucina grassa Testamento magro Dottor Oglan Vi sono sempre grata Per l'ospitalità Ma vi sarò ancora più grata Se mi leggerete questa lettera Che mi ha scritto il signor Descartes Io non so leggere Lo sapete Vedere e non capire Come tornare dalla caccia Con il carniere vuoto Cara Elena Mi congratulo con voi Per la buona salute che godete E prego il Dio Che essa non vi manchi Fino al termine della vostra attesa Quanto a me Sono ormai trent'anni Che grazie a Dio Non ho alcun male E mi sembra di essere adesso Più lontano dalla morte Di quanto non lo ero Nella mia giovinezza Vi farà piacere sapere Che in questi giorni Mi sono preoccupato Di ottenere dai giudici Di questa città La grazia della vita di Joachim Il contadino Che ingiustamente è stato accusato Di omicidio Lo faccio per compiere Un'opera di bene Soprattutto per la sua famiglia Una buona coscienza E un buon guanciale Nella nostra vita Dobbiamo praticare Tra gli insegnamenti di Cristo Soprattutto la regola dell'amore Che è l'unico sentimento Che può rendere più felice Il cammino dell'uomo Su questa terra Temo di non poter venire Nel prossimo mese A trovarvi Come vi avevo promesso Ma siate certi Che non mi dimentico di voi Le parole volano E i figli restano Volete che continui? Sì Fatemi avere vostre notizie Attraverso il corriere Del dottor Hoagland Che ringrazierete da parte mia Per l'ospitalità che vi dà René Descartes Chi promette molto Mantiene poco Grazie dottore Quando è arrivata? Questa mattina signore È di padre Mersenne Ianni vestiti Pubblicherò tutto Non posso rinunciare A stampare un trattato Al cui ho lavorato Per tanti anni Il trattato era quasi finito Non mi restava altro Che correggerlo E copiarlo Ma se Galileo Un italiano Stimato dal Papa È stato condannato Io non mi sento più di continuare Ma forse esagerate Potrete pubblicarlo più tardi Nella sua lettera Padre Mersenne È stato molto chiaro E credo che abbia ragione E credo che abbia ragione Ma l'Olanda è tanto lontana da Roma Ve l'ho già detto Io non voglio correre Il rischio di contraddire Né di turbare la chiesa Sono quasi tentato di bruciare Tutte le mie carte Certo non le farò vedere a nessuno Tutta la mia opera È talmente connessa Con l'ipotesi del moto dei cieli Che è impossibile Correggerla Anche volendolo fare Se è così Non posso darvi torto Aspettate Ecco Sentite cosa mi scrive Un discepolo del nostro Galileo Dopo lungo processo E infinite ingiurie Egli è stato relegato Nella città di Siena Dalla quale non può allontanarsi Senza permesso I suoi scritti Sono stati banditi tutti Perché egli teneva come vera La falsa dottrina Da alcuna insegnata Che il sole sia centro del mondo Immobile E che la terra si muova Di moto di otturno E per aver inoltre insegnato La medesima dottrina Ed averla diffusa Con lettere E scritti Dopotutto Non ho mai desiderato Di scrivere libri Se non avessi ceduto Alle insistenze Di qualche amico Non avrei scritto mai Non cerco Che la pace E la tranquillità Dello spirito Me ne sono già tante Di opinioni In filosofia Apparentemente solide Che possono essere Dibattute nelle dispute E se le mie Non sono ben più solide Di esse E non possono essere Approvate E senza controversia Non accetterò mai Di pubblicarle Voi siete un po' troppo prudente Lo sapete che in Francia Vi è stato Chi ha difeso Galileo Lo so Anche quel buon frate Di Mersenne È tra questi difensori Ma anche lui Mi ha raccomandato La prudenza Io però Non farò mai Ciò che c'è un po' troppo prudenza Per placare La propria eccitazione La propria eccitazione Il desiderio Attenderò Perché Ciò che non appare possibile oggi Può esserlo Domani Franci Io ti battezzo In nome del padre Del figliuolo E dello spirito santo Amen Amen Il padre I testimoni Potrò tornare Ad abitare con voi adesso Non ancora Elena Non ancora Allora non volete Ma non dite questo La bambina è molto bella Vi scriverò Non vi abbandonerò mai Siete certo che sia partito da Amsterdam? Il suo servo mi ha avvertito Che sarebbe arrivato qui a Dutrecht In giornata Il signor Descartes è arrivato Oh eccolo Fatelo entrare Il signor René Descartes è arrivato Cartesius Mio carissimo Descartes Eccovi finalmente ritornato a Utrecht Madame Sono lusingato da tanto onore Vi stavamo aspettando Sono stato 15 giorni ad Amsterdam In questo salotto nel quale Madame Anna Maria de Schurman Riceve spesso i dotti più famosi Dei Paesi Bassi Si sentiva molto la vostra mancanza Così voi mi confondete caro amico Ci hanno detto che state preparando Presso il vostro tipografo La stampa di una nuova opera Ci siamo molto dispiaciuti Quando avete rinunciato a stampare Il trattato sul mondo per timore Vi sbagliate Non è stato per timore È stato per rispetto all'autorità E per prudenza Una giusta prudenza Questi amici sono venuti per ascoltarvi La mia nuova opera riprenderà Idee e materiali del trattato del mondo Signori Ho scritto Il progetto di una scienza universale Che possa innalzare la natura Al suo più alto grado di perfezione Ci dite troppo poco mio caro René Mi avevate tanto parlato Dei vostri progressi nella metafisica Avete timore di esporli? Avete scritto un libro di metafisica? Rinunciate al vostro metodo matematico? Tranquillizzatevi Intendo dimostrare le verità Spiegate fin qui dalla metafisica Attraverso vie nuove Sarebbe sterile Avere scogitato un metodo Per il retto uso della ragione E non adoperarlo Per dimostrare i fondamenti Della creazione dello spirito E di quello che ci circonda Al di là delle tesi degli scolastici Senza nulla concedere Alle loro argomentazioni Ecco uno Dei miei nuovi ragionamenti Tutti sanno che talvolta I sensi ci ingannano Suppongo allora Che nulla di ciò che vediamo Sia come i sensi ce lo fanno apparire Ma dubitando di tutto Mi appare subito evidente Che io penso E se penso Devo pur essere qualcosa Io penso Dunque sono Dunque esisto Questa certezza di essere Io la ricavo Da me stesso Io sono una sostanza La cui naturale Essenza Consiste nel pensare Totalmente indipendente Da qualsiasi cosa materiale Ebbene Questo io A cui mi riferisco E' l'anima Per la quale Io sono quello che sono Ho verificato poi Che nessuna delle cose Che esistono La terra La luce Il colore Appaiono superiori a me Più perfette di me Ma chi ha posto in me L'idea di un essere Più perfetto del mio Mi sono domandato Certamente Una natura Più perfetta della mia In grado di poter concepire L'idea della perfezione Cioè a dire Di un essere sovrannaturale Assolutamente perfetto Che io indico Con una sola parola Dio Nel mio trattato Io dimostro anche Nella maniera più chiara L'esistenza in me E nel mondo Di una sostanza Pensante Distinta Da quella corporea Ma quale delle due È la natura di Dio Io dimostrerò Che il Dio Certamente Non può essere Un composto Di due sostanze Quella corporea E quella pensante Perché la mescolanza Sarebbe segno Di imperfezione Caro René Voi parlate Dell'esistenza Dell'anima e di Dio In un modo davvero insolito Mi avete commossa Il vostro disegno È molto audace Ed acutissimo Però la vostra distinzione Della realtà In sostanza corporea E sostanza pensante Susciterà parecchie obiezioni Risponderò a tutti Intanto È necessario Che pubblichi Al più presto Il mio trattato Alle obiezioni Penserò dopo Madame Vieni qui Buona Ci ho messo pane Burro Formaggio Frutta candita E quattro paia di calze Che ho fatto per voi Chi possiede un tesoro E non lo sa È molto più povero Di chi non l'ha Quando arriverete a Leida? Tra due giorni Ho un buon cavallo Vi siete fermato Troppo poco con noi Ho dei doveri da compiere Non posso fare diversamente Una pignata d'oro Non vale un focolare Voi non potete capire Parlo per vostra figlia Non per me Elena Spero che venga un giorno In cui potrò vivere Con Franzino e voi In famiglia Come fa ogni uomo Ogni giorno Prego Dio per questo Signor Descartes Il vostro servo Ha preparato i cavalli Mi dovreste far vedere Più spesso a Deventer Lo so Vi ringrazio Di quello che fate per Elena Tornerò presto È una creatura bellissima Perché è perfetta Per me è come un miracolo Non è un miracolo È una macchina perfetta della natura I suoi occhi Le pupille Me ne vado E Dio vi benedica Saluta Saluta papà Saluta Saluta Ma voi mi avete parlato Di un altro titolo Progetto di una scienza universale A Parigi e d'altrove Gli scolastici sono pronti A tacciare di eresia Ogni novità Un buon frate Mi ha consigliato Di essere prudente Anche questa volta Sarà stato il vostro amico Padre Mersenne Deve essere davvero Un uomo prudente Il discorso sul metodo Comincerò a comporlo subito Sarà pronto presto Prestissimo Domani vi porterò La dedica Che dovrete stampare Sulle prime tre copie La prima la indirizzerò Al principe di Orange Sovrano di questo paese La seconda A Luigi XIII A re di Francia E la terza Al suo primo ministro Il cardinale Di Licelli Signori Vi ringrazio di essere venuto Vi ammiro molto Mio caro René Mi accompagnerete a casa Alla fine della disputa Non potrò farlo signora Devo partire subito Per Saint Porte Andate a trovare Vostra figlia Francine Sì Torno da lei Andate Vi aspettano Le obiezioni al vostro trattato Sono numerose Allora Dite le vostre obiezioni Signori Voi avete affermato Un'anima Un'anima Un intelletto Una ragione A mio avviso La deduzione non è esatta È come se dicessi Io sono pensante Dunque sono un pensiero Oppure Io sono intelligente Dunque sono un intelletto Sarebbe come dire Io sono un passeggiante Dunque sono una passeggiata Noi non possiamo concepire Nessun atto Senza il suo soggetto Il pensiero Senza una cosa che pensa La scienza Senza una cosa che sappia E la passeggiata Senza una cosa che passeggia E da questo Mi sembra di poter conseguire Che una cosa pensata È anche una cosa corporea Voi sostenete che l'idea Di un essere sovrano Non può essere nata Da se stessa Ma deve essere stata Infusa in voi E in tutti gli uomini Dal di fuori Ma credete davvero Che quest'idea Sarebbe mai nata Nel vostro spirito Se aveste passato Tutta la vostra vita In un deserto E non in compagnia Di persone dotte I canadesi Gli uroni Ed altri selvaggi Non hanno in sé Tali idea L'idea di Dio Che voi avete Non è differente Per natura Dall'idea di un numero O di una linea Che voi dite infinita Noi non troviamo Una sola parola Nei vostri scritti Riguardo all'immortalità Dell'anima umana Che a mio avviso Non dovevate trascurare Di dimostrare Per confondere Tutti coloro Che sono indegni Dell'immortalità Perché la negano Forse perché la temono Signor Descartes Voi avete scritto Un sottile costrutto logico Una perfetta meccanica Della ragione Senza mai riferirvi Ai sentimenti Alle passioni Al cuore dell'uomo Voi non avete mai citato La Bibbia E scrivendo di Dio Non avete mai rilevato Che la sua natura È mistero Dal che nasce per noi La necessità Della fede Per sua natura La fede È un moto dell'anima Che vive Al di là della ragione E la illumina Con i vostri scritti Invece Voi avete dimostrato Che non vi è nulla Al di fuori Della ragione Che sia in grado Di condurre L'uomo Alla verità Signori Ho ascoltato Con molta soddisfazione Le vostre obiezioni Perché esse Mi hanno fatto conoscere La benevolenza Che avete per me E la vostra Pietà Verso Dio Così non posso Che rallegrarmi Non solamente Perché avete giudicato I miei ragionamenti Degni della vostra Censura Ma anche Perché non obiettate Nulla Contro di essi A cui non mi sembra Di poter rispondere Assai agevolmente Delle cose Che appartengono Allo spirito Noi non abbiamo avuto Fino ad ora Che idee Assai confuse E mescolate Con le idee Che ci provengono Dalle cose Sensibili Questa è stata La prima Una e principale ragione Che ci ha impedito Di intendere In modo chiaro Tutto ciò che si può Su Dio E sull'anima E penso Di non fare Piccola cosa Se mostrerò Innanzitutto In che modo Bisogna distinguere Le proprietà Le qualità Dello spirito Da quelle Del corpo E come Si possa Riconoscerle Signori Questa non sarà Un'impresa Da poco Avete le bozze Della dedica Eccole Il signor Descartes Non ci perdonerebbe mai Se lasciassimo Qualche errore Di stampa Nel suo nuovo libro Le meditazioni De prima filosofia Il signor Descartes È molto attento Anche all'ortografia E alle virgole Ma non tornerà a Parigi Per la fine del lavoro? No Rimarrà ancora Nei Paesi Bassi Al decano E ai dottori Della sacra Facoltà Teologica Di Parigi Il signor Descartes È molto prudente Certamente Come può esserlo Un sapiente Ma Da quando lo conosco Ha sempre detto E scritto Sinceramente Tutto ciò Che pensa Ha scritto Di geometria E di matematica Sull'ottica E la fisiologia Per ricercare Una nuova maniera Di filosofare Nella quale Non vi sia messa Alcuna ragione Che non abbia Un'assoluta Evidenza matematica Fin dalla sua infanzia Tale È stata La sua ricerca Signori Per quanta forza Possano avere I miei ragionamenti Io non posso sperare Che facciano Un grande effetto Sugli spiriti Se non li prenderete Sotto la vostra protezione E non dubito Che voi Vi degnerete Di prendere Tanta cura Di questo scritto Da volerlo Innanzitutto Correggere E dopo le ragioni Per mezzo Delle quali Io provo Che vi è un dio E che l'anima umana Differisce dal corpo Saranno condotte Fino all'estremo punto Di chiarezza E di evidenza Io spero Che voi vorrete Dichiarare tutto ciò E testimoniarlo pubblicamente La verità Farà sì Che tutti i dotti E gli uomini Di ingegno Sottoscriveranno Il vostro giudizio Con il nome di Dio Intendo una sostanza infinita Dalla quale io stesso E tutte le altre cose Sono state create E prodotte E io non potrei avere L'idea di una sostanza infinita Io Che sono finito Se essa non fosse stata Messa in me Da una sostanza Veramente Infinita È venuto il signor Wiggins Fatela entrare René Costantino Vedete Lodi Obiezioni Accuse È il successo Ma insieme al successo Dio mi ha dato I più grandi dolori È morto mio padre In Francia E nessuno mi ha avvertito Per timore di recarmi Disturbo Così mi ha scritto Mio fratello E Anche Franzini È morto La luce Dei miei occhi Per la quale Ero venuto a vivere In questa casa Insieme ad Elena Ho vissuto poco Troppo poco Con Franzini La scienza Mi ha impedito Di vivere Ciascuno di noi Ha la sua vocazione E deve viverla Con fedeltà Ogni cosa che abbiamo Viene da Dio È la sua mercede Sì Certo Continuerò a vivere E a pensare Ma adesso Mi chiuderò gli occhi Mi turerò le orecchie Spegnerò i miei sensi Desidero cancellare Dai miei pensieri Tutte le immagini Delle cose corporee E di intrattenermi Soltanto Soltanto con me stesso E vivere chiuso Nel mio intimo E forse Scrutando dentro di me Riuscirò a placare A poco a poco Il dolore E la confusione Di questi giorni Proverò a me stesso Che una cosa Un'anima Che penso Vuol dire Che dubita Che afferma Che nega Che conosce Poche cose E ne ignora molte Che ama Che odia Che vuole Che non vuole più Che ricorda Immagina E sente Tenterò Nel dolore Di estendere La mia conoscenza Considererò Con cura Se non posso ancora Scoprire Dentro di me Qualche altra cosa Che non abbia Fino a questo momento Ancora percepito Io ho la sicurezza Di essere Una realtà Che pensa Ma da dove Mi viene Questa certezza